Buon pomeriggio a tutte e a tutti, ci scusiamo per il ritardo con cui riprendiamo i lavori di questo nostro seminario di studio e di riflessione attorno a un tema grande e complesso come quello che abbiamo sentito in Aria questa mattina con tante voci, esperienze, punti di vista che ci hanno aiutato a ricomporre una complessità che spesso è frammentata, che spesso ci appare attraverso delle parzialità che non sempre ci consentono poi di assumere gli atteggiamenti migliori. Oggi pomeriggio affrontiamo la parte, se vogliamo, più difficile, l'abbiamo già citata questa mattina, è la parte in cui dobbiamo provare a capire che cosa in concreto possiamo cercare di fare nei prossimi anni, direi a partire da adesso, anche declinando il futuro come un tempo presente in cammino, in continua mutazione. Come possiamo estendere la cura del mondo? Che cosa possiamo fare in concreto di fronte ad una sfida così grande eppure così irrinunciabile? Io ho un ordine di intervento e vorrei chiedere innanzitutto se il professor Fiorin è collegato. Sì, sì, grazie. Eccoci. Italo Fiorin, nostro carissimo amico, una persona con la quale stiamo condividendo tanti percorsi di formazione, di cura della formazione e dell'educazione nel nostro paese. È fondatore e presidente della scuola di alta formazione EIS della LUMSA di Roma e molti altri incarichi. con lui oggi pomeriggio ripartiamo dalla scuola, così come abbiamo iniziato questa mattina con Luigi Tosolini, un dirigente scolastico, persona impegnata profondamente nella cura della crescita, della formazione delle giovani generazioni. E allora Italo, so che con te sfondiamo una cosa che è quella del tuo campo di lavoro quotidiano. Ecco, come possiamo estendere la cura nel mondo? Abbiamo circa, diciamo, una decina di minuti a testa, cerchiamo di stare nei limiti, così non devo svolgere un ruolo sempre un po' scomodo, di richiamare le persone ai tempi, ma so che Italo, tu lo sei da solo, senza bisogno di richiami. Grazie a te Italo. Grazie Flavio, grazie al professor Mascia, agli organizzatori. Questa mattina mi è dispiaciuto, avevo proprio un impegno parallelo e ogni tanto riuscivo a inserirmi ed era molto ricco quello che ho potuto ascoltare. Quello che cercherò di dire in questo intervento, che spero di stare nei tempi, è proprio una riflessione che parte dal mio punto di vista, quello di essere un insegnante, un ricercatore, un formatore, quindi uno che lavora nell'ambito dell'educazione. Lavorando in questo ambito, sempre più prendo consapevolezza del ruolo centrale che l'educazione riveste, come motore di cambiamento. Perché se è vero, come dice Freire, che l'educazione non può cambiare il mondo, è però vero, e lo dice lui stesso, che può cambiare gli uomini che possono cambiare il mondo. E quindi ci riguarda individualmente, nella nostra responsabilità individuale. Un'educazione però che non può essere un'educazione di tipo conservativo, di tipo depositario, di tipo distaccato dalla realtà, ma un'educazione impegnata, compromessa. Un'educazione nella quale ci si apra alla prospettiva del possibile, il possibile desiderato, e ci si impegni per realizzarlo. Perché, come dice Bruner, l'educazione è pericolosa perché alimenta il senso della responsabilità, e questo lo sanno molto bene nei regimi dittatoriali, dove manca la democrazia, dove l'educazione viene narcotizzata o viene resa funzionale a costruire l'uomo del consenso. Quindi un'educazione impegnata e direi anche un'educazione pericolosa, che si misuri con il possibile. Un mio riferimento più forte, sicuramente in questi giorni difficili che stiamo vivendo, in questa congiuntura non solo della pandemia, ma in questi decenni, in questo ventunesimo secolo, è il pensiero di Papa Francesco, eppure non essendo un pedagogista, è una persona che nei suoi discorsi, nelle sue lettere, in particolare nelle due bellissime encicliche, laudato sì e fratelli tutti, esprime una visione che è anche una visione pedagogicamente molto alta. Tanto è vero che io penso che come si può parlare dell'economia di Francesco, anche se non è un economista, si può perfino parlare di una pedagogia di Francesco, anche se non è un pedagogista. E di lui condivido in primo luogo l'analisi che fa di una nostra società quando ci dice che viviamo nell'ombra di un mondo chiuso, dove, soffocato dalla logica del potere e del profitto, un profitto senza regole che crea situazioni intollerabili, di diseguaglianza, cancella i diritti delle persone più fragili, alimenta l'egoismo dei singoli e degli stati. E tutto questo accade all'interno di una globalizzazione dell'indifferenza, della frammentazione e dell'inconsistenza. Nell'editoriale che introduce la rivista Limes che è in edicola in questi giorni, il direttore scrive «La società e il virus che la corrode si specchiano l'uno nell'altra. Siamo affetti da singolarismo, cioè rifiuto del prossimo, e da immortalismo, cioè rifiuto del limite. E riponiamo una immensa fiducia nella tecnologia come liberazione dal male, ma dal nostro male, degli altri non ci interessa molto. Allora, dal punto di vista educativo, il problema è cosa si può fare per invertire o almeno contrastare questa deriva. Se noi guardiamo, io parlo adesso all'interno del sistema scolastico e anche universitario italiano, certamente, i valori ai quali ci ispiriamo sono i valori sanciti dalla Costituzione, sono valori alti. Le indicazioni nazionali recepiscono i migliori orientamenti, anche internazionali, in termini di valori di riferimento, di diritti umani, di società democratica. La recente legge sull'educazione civica addirittura pone, tra gli altri, la carta 20-30 come uno dei riferimenti ai quali invita la scuola a rivolgersi e ad approfondire. Diciamo che tutto questo, però, lo avvertiamo come importante, ma non come sufficiente. Come mai? Perché i valori affermati non si traducono in comportamenti diffusi, che cosa bisogna fare perché l'educazione sia veramente trasformativa. Mi viene in mente le parole di Raymond Arp quando cercava di spiegare come mai per lungo tempo avesse negato la Shoah e diceva così «Lo sapevo, ma non ci credevo». E proprio perché non ci credevo, non lo sapevo. Anche noi sappiamo tante cose. Sappiamo dei migranti che rischiano la vita. Sappiamo dei soprusi di ogni tipo a cui sono esposti. Sappiamo dei muri spinati. Sappiamo le cause del cambiamento climatico, ma anche le responsabilità politiche e sociali. Noi sappiamo, i nostri studenti lo sanno, ma non ci crediamo. E' qualcosa di virtuale, di irreale, qualcosa che non ci tocca. Allora, dal punto di vista educativo, bisogna partire da questa domanda. Come si fa a credere, non perché siamo informati, ma perché siamo toccati? Perché la nostra pelle ha sentito, il nostro cuore ha reagito. La strada, almeno per come sono arrivato a pensarla io, è quella di educare al sentido. Uso questa espressione spagnola perché è difficile da tradurla in italiano. Vorrebbe quasi dire quella conoscenza che nasce dal cuore. Questo è possibile se gli studenti fanno esperienza e possono, facendo esperienza, incontrare la realtà e possono agire. La via del sentido fa sperimentare empatia, compassione, fratellanza, ma tutto questo poi deve passare attraverso l'assunzione di responsabilità. in prima persona, l'agire, non aspettando che un altro decida o agisca o ti risolvi i problemi al posto tuo. Uscendo dall'acidia, impegnandosi e compromettendosi in prima persona. Come dice un detto buddista, compassione e conoscenza sono le ali che ci possono far volare, ma devono stare insieme. Allora, cercando di tradurre queste ispirazioni nella mia, esperienza, quindi in una maniera molto più semplice e certamente modesta, ma che comunque cerca di ispirarsi a questo, in particolare le direzioni di lavoro sulle quali sono impegnato sono in questo momento soprattutto due. Una prima direzione è legata prima all'approfondimento, poi alla sperimentazione, poi all'impegno per la diffusione di una proposta pedagogica che trovo di eccezionale potere trasformativo, che è conosciuta in ambito internazionale in tanti modi, ma il modo più diffuso con il quale è conosciuta è quella del service learning. Service learning significa che quando uno studente apprende, non apprende solo per se stesso, non apprende solo per la sua personale carriera, ma sente la responsabilità sociale della competenza che sviluppa. E allora le proposte di service learning sono quelle di mettere lo studente immediatamente nella possibilità di restituire alla società la competenza che va acquisendo e così facendo, intervenendo, rispondendo a bisogni che incontra nella realtà in cui vive, collegando questo alla sua esperienza di studio, diventa certamente più competente, ma diventa anche una persona migliore. Per questa ragione ho avuto veramente l'onore, la possibilità, l'opportunità di fondare nell'Università l'UNSA di Roma, questa scuola di alta formazione che abbiamo titolato Educare all'incontro e alla solidarietà, nella quale cerchiamo di approfondire prima di tutto dentro l'Università, a livello sia teorico, ma poi di pratica con gli studenti e poi anche all'esterno dell'Università, cercando di diffonderlo, collaborando in tanti modi, la proposta pedagogica del service learning. Un secondo percorso nel quale sono impegnato, cercando sempre di rispondere a questa domanda, come si può far sì che sentire e conoscere volino insieme, ci portino insieme a camminare. Un minuto Italo, chiedo scusa, un minuto. Grazie, hai fatto bene. È un'esperienza che condivido all'interno della Fondazione Pontificia Scuola Soccurentes, voluta da Papa Francesco, che vede tra i vari progetti, un progetto in particolare del quale solo accenno, si chiama il progetto delle cattedre, cattedre scuola, scuola-schese, che vede oggi oltre 100 università del mondo con progetti di collaborazione che agiscono attraverso gruppi di ricerca che lavorano insieme anche a realtà esterna, all'università. Lo sfondo è quello della ricostruzione del patto educativo. I progetti sono di vario tipo, ma la caratteristica, con questo chiudo, di questo lavoro insieme, che l'esperienza è insieme interdisciplinare, certamente, professori, studenti di tutti gli corsi, di tutte le discipline, interculturale, interreligiosa, e si muove all'interno del mondo cercando di costruire una rete di solidarietà dove noi non soltanto cerchiamo di sapere, ma proprio perché sappiamo ci sentiamo coinvolti ad agire. Grazie. Grazie, grazie davvero. Davvero Italo, purtroppo dieci minuti non possono mai riassumere la ricchezza di questi percorsi che, come abbiamo detto, questa mattina sono la sorgente nostra di speranza, di fiducia, illuminando e sostenendo e diffondendo questi percorsi che noi possiamo, nel concreto, cercare di alimentarli, di farli crescere. Grazie ancora Italo per questo. Vedo già collegata Marina Galati, Marina Galati, rappresentante di tante associazioni, ma qui insomma membro di Banca Etica del Consiglio di Amministrazione. Ecco, a te la parola. Bene, intanto grazie. Per prima cosa mi vorrei congratulare su questo titolo che ho trovato molto bello e ieri leggendo approfondendo il vostro documento sono sorte in me due filosofe, ecco, anzi più pedagogista, altra filosofa, che si poneva proprio il tema della cura, della cura come prendersi cura della vita, di quella necessità appunto di costruire il bene, ma come poi dice Judith Butt, la nostra filosofa che ha lavorato molto su questi temi, è molto importante capire in realtà in che cosa consiste una vita buona e come nel nostro tempo lo possiamo coniugare, perché in realtà uno dei temi nostri è appunto quello di capire che cosa è giusto e che cosa è buono da fare in questo momento per aver cura del mondo. Ognuno di noi lo esercita in un settore, nel nostro caso io parlerò nel quanto riguarda la banca. Ecco, il tema, o meglio anche il tema della finanza etica. Noi ovviamente come banca etica ci occupiamo da tanto tempo di alcuni temi, ma una cosa che ci preoccupa e su cui noi in questo momento ci sentiamo sfidati è proprio il dare valore alla dimensione cooperativa del mondo bancario. Abbiamo assistito sempre di più a questa fase di diffusione, di incorporazioni. Ormai abbiamo pochissimi grandi banche popolari in Italia e sentiamo che appunto per poter continuare a sussistere quei processi di democrazia economica che anche stamattina si parlava. Abbiamo bisogno che le persone, i soci, le azionisti possano partecipare e prendersi cura di queste organizzazioni perché non possono andare in mano di pochi. Il rischio oggi, sapete, c'è anche questa nuova normativa che impedirà alle banche popolari di poter avere uno statuto a forma cooperativa se superano gli 8 miliardi di valore. Noi non siamo ancora a questo punto, però certamente è un tema molto a rischio. Allora per fare questo che cosa diventa necessario? Diventa necessario per noi sviluppare e rafforzare relazioni, alleanze con le organizzazioni europee e internazionali della finanza etica. Siamo dentro delle grandi network che sono sia quello europeo di Febea sia quello della Gab perché sono reti delle banche etiche che oggi si ritrovano anche a dover sviluppare forme di adivocasi molto forti per in qualche modo per fare in modo di poter sostenere sempre di più una finanza etica. Voi sapete che in questo momento in Europa si parla di finanza sostenibile ma attenzione la finanza sostenibile non è la finanza etica. Certo è un passo avanti sicuramente però quando noi parliamo di finanza etica parliamo proprio di una capacità di tenere sempre presente il tema dell'ambiente il tema della solidarietà il tema sociale il tema delle governance a volte invece nella finanza sostenibile magari possiamo avere una grande azienda che dal punto di vista ambientale porta avanti tutta una serie di azioni positive ma poi dal punto di vista sociale esempio con i lavoratori non è sullo stesso piano quindi è un tema molto dibattuto in questo tempo e che ci richiede effettivamente di poter avere una maggiore attenzione ma non possiamo farlo da soli quindi per non farlo da soli abbiamo bisogno di costruire di stare nei network e sempre di più agire in termini di advocacy anche su questi temi un altro elemento che ci sembra importante oggi potenziare è quello delle attività di microcredit nel mondo è una cosa per cui siamo nati in fondo essendo nata a Padova quindi sapete benissimo le storie della CTMMA che un po' anche dalle altre ONG con cui abbiamo siamo nate e ci siamo un po' formate anche durante il percorso però in questa fase qui riteniamo che dobbiamo ancora di più rafforzarci infatti abbiamo messo su una società a Cresud che è tutta intenta alla microfinanza a sostenere i network delle microfinanze in Europa e nel mondo e a proprio supportare queste microfinanze che a loro volta possono raggiungere poi nei paesi dal Senegal a Luganda tutto il resto per poter aiutare a contribuire poi perché le persone nel loro piccolo possono agire delle piccole attività imprenditoriali altro punto che ci sembra necessario continuare è l'accesso al credito della popolazione svantaggiate oggi si è ampliato voglio dire è una cosa che facciamo sempre ma dobbiamo stare anche con l'attenzione verso i tempi faccio degli esempi solo per capirci se il tema delle persone svantaggiate l'abbiamo sempre avuto fin dall'inizio oggi sosteniamo anche quelli che per resti i workers buy out che cosa sono i workers buy out sono coloro i lavoratori che hanno comprato diciamo in altre parole quelle imprese che erano sotto sotto sequestro delle mafie quindi supportare questi lavoratori a mettere di nuovo in piedi un'impresa ma di cui loro diventano proprietari sono piccoli segni ma piccoli importanti anche per contrastare tutto ciò che può essere attività della criminalità organizzata e da quelle attività invece in qualche modo ricostruire benessere per le persone e per i territori sempre da questo punto di vista mi sembra che sia necessario anche dire qualcosa sui migranti sui migranti che non è soltanto sostenere le comunità o le organizzazioni che accolgono i migranti cosa che abbiamo fatto fin dall'inizio e che sosteniamo molto col nostro credito ma anche le stesse persone che oggi cominciano ad inserirsi nei nostri territori e sono tanti e sono tanti e che hanno bisogno di essere supportati dal punto di vista appunto delle attività imprenditoriali per includersi perché attenzione noi abbiamo un problema importante oggi con i migranti in Italia quello di non non vederli soltanto come persone che accogliamo ma anche come persone che possono essere dei grandi motori dell'economia oltre ad essere soltanto a servizio delle degli imprenditori o degli degli agricoltori o delle grandi industrie che ci possono essere ma che essi stesse possono diventare protagonisti allora tanti di questi programmi li abbiamo collocati in questa direzione ultimo vedo che il tempo sta scadendo un tema che che ci sta a cuore poi a me sta a cuore proprio anche perché sono una donna è quello di lavorare per la finanza donna e finanza donna e finanza che è legato a tutto quello che è all'accompagnamento all'uso della finanza da parte delle donne o da parte delle imprese femminili come alcuni dati ci dicono che le donne ovviamente utilizzano poco la finanza ma la utilizzano perché spesso la fanno utilizzare ad altre figure maschili sia che si siano imprenditori che si siano imprenditrici una degli elementi allora fondamentali per donne e finanza significa supportare le donne non solo per quanto riguarda la possibilità di avere microcredito ma anche supportarle per tutto quello che invece è determinante per costruire per lanciare un'impresa femminile ovviamente un altro dei grandi temi che noi su cui non stiamo sostenendo è quello di accompagnare supportare le organizzazioni che si sono impegnate con le donne vittime di tratta così come le donne vittime di violenza che i dati ci dicono sempre di più aumentano durante questo lockdown sono molto aumentate e diventa per noi necessità anche di costruire progettualità che possono mettere a porre attenzione a queste donne anche dal punto di vista finanziario tanto che accompagniamo donne che escono a storie difficili che possono essere supportati da un punto di vista anche della consulenza finanziaria e dalla capacità poi di rimettersi di nuovo a vivere a vivere nei territori a vivere in modo autonomo e poter gestire le loro piccole autonomie e gestire le loro famiglie non so se sono grazie ottimo sei stata chiaramente ricca questa della cura dei soldi e la cura come dire la riconquista io credo del mondo della finale a una qualche regola qualche elemento di eticità insomma in un momento in cui la finanza mondiale sta facendo disastri peggiori è una grande questione globale di cui ci dobbiamo imparare a fare carico e quindi contiamo davvero sul contributo vostro insomma per proseguire con questa riflessione intanto grazie e poi più tardi interverrà anche Marco Piccolo nel frattempo vedo collegato anche Benedetto Saraceno Benedetto Saraceno non ci conosciamo personalmente ma che ha svolto per molti anni un ruolo di primo piano nell'organizzazione mondiale della sanità e oggi è segretario generale del Lisbon Institute of Global Mental Health e a lui abbiamo chiesto di così condividere alcuni pensieri a proposito del del futuro della nostra salute su scala globale e quindi ancora una volta che cosa fare a te la parola grazie Benedetto e devi accendere il microfono grazie per invitarvi e buon pomeriggio a tutti ma io credo che ci sia una sfida un po' per tutti quanti noi qualunque siano le prospettive gli angoli di visuale è una sfida metodologica è una sfida politica cioè che è quella di come si faccia a trasferire i metodi le teorie della cura rivolta agli individui la cura come bene per persone a la cura del mondo le persone gli individui e il mondo non sono la stessa cosa per cui i metodi le teorie le pratiche della cura alle persone non sempre sono trasferibili alle cure e alle pratiche del mondo questo mi pare un grande quesito metodologico e politico mi limiterò soltanto a menzionare quelli che io ritengo tre temi interconnessi e imprescindibili per avanzare nella riflessione della cura degli individui e del mondo i tre temi sono scarto conflitto speranza c'è vigente una ideologia dello scarto c'è una pratica dello scarto quest'ultima è talvolta inconsapevole se la ideologia dello scarto riflette una visione mortifera dell'uomo e della natura basata sul profitto spesso la pratica dello scarto quando non è realizzata a livello macro pensiamo all'industria dalla deforestazione all'estrazione del combustibile fossile ma a livello micro è figlia di inconsapevoli ma irresponsabili culture consumistiche dell'usa e getta lo scarto evidenzia il modo di funzionare di un'economia lineare e non circolare che aggredisce le risorse e le trasforma in rifiuti coloro che vengono come è il mio caso dalle grandi esperienze di lotta di liberazione degli ultimi nei manicomi nelle carceri nelle istituzioni totali conoscono bene anche una altra economia dello scarto ossia l'economia degli scarti umani la funzione regolatoria degli scarti dalla normalità e l'idea di contenimento delle libertà e delle vite di scarto è ahimè ancora vigente si ripropongono etichette collettive tanto rassicuranti quanto prive di senso e di umanità i tossicodipendenti i senza fissa dimora gli immigrati e così si rafforzano istituzioni simboliche e pratiche contentive la saga delle tribù identitarie che non esistono in natura ma che fanno comodo alle soluzioni spicce non si arresta mai la cultura dello scarto quindi non riguarda soltanto l'ambiente ma si trasferisce in veste il nostro rapporto con l'essere umano ridotto a risorsa che vale solo perché serve condannato al destino di scarto quando non serve più i spazi per rigettare le vite di scarto sono tutte le istituzioni totali quindi non soltanto i manicomi le carceri ma anche i campi per i migranti per i rifugiati il mare mediterraneo è diventato la più efficiente istituzione totale per gettarci vivi e morti che non si sa dove mettere cosicché un ambiente tanto naturale quanto devastato dall'inquinamento è diventato il luogo concreto e simbolico dove rigettare scarti umani e rifiuti plastici e a partire dalla laudato sì che è possibile ritrovare un filo rosso che collega pratiche e lotte apparentemente distanti la cosiddetta conversione ecologica non determina soltanto convivenza armoniosa con la natura ma anche convivenza fra gli esseri umani per troppo tempo abbiamo visto militare in favore parlo di me stesso di una umanità scartata senza però mai preoccuparsi del pianeta in cui essa vive e troppo spesso abbiamo visto militare per una natura aggredita e divorata ma senza mai preoccuparsi della umanità che la abita è tempo di coesione di mobilitazione perché i nemici dell'uomo della donna e della natura sono gli stessi e questa è la mia prima pista di azione che segnalo dunque è tempo di conflitto a partire dal nuovo millennio la realtà è diventata sempre più feroce l'aumento esponenziale dei fenomeni migratori l'accelerazione drammatica dei mutamenti climatici la infezione dilagante dei nazionalismi più fanatici l'aumento delle differenze fra ricchi sempre più ricchi e poveri sempre più poveri l'impoverimento progressivo di una classe media pervasa di rancore ma non basta resistere bisogna aprire conflitti e così abbiamo bisogno di riflettere sulle nuove forme del conflitto quelle novecentesche che si realizzavano attraverso le lotte operaie i grandi scioperi del proletariato o magari con l'anarco terrorismo delle avanguardie che incapaci di guidare le masse sparavano sono forme del conflitto certamente obsolete ma allora quali sono i laboratori possibili per tornare a fare politica quale relazione fra avanguardie e masse esistono le avanguardie è necessario che esistano le avanguardie io non lo so dobbiamo interrogarci su nuove forme possibili di formazione della classe dirigente dobbiamo constatare che le masse non sono più costituiti dalla classe operaia classe di governo ma da un insieme eterogeneo di gruppi sociali cioè una classe operaia in contrazione e frammentata una media borghesia rancorosa una popolazione di giovani destinati a restare precari per tutta la vita una popolazione di impensionati in implacabile aumento e una massa di disoccupati che costituiscono una mina vagante allora non è possibile stare a guardare bisogna mettersi nel mezzo è urgente promuovere e questa è la mia seconda pista per l'azione conoscenza vera dei problemi facilitare informazione affidabile e accurata per consentire la liberazione di energia politica capace di generare conflitti che aprano i cuori al bene pubblico ecco allora che abbiamo bisogno però di un orizzonte per sostenerci in questa marcia difficile abbiamo bisogno di sperare allora non si tratta di invocare qui speranza per inverare il regno dei cieli no no ma per attraversare attraverso il fertile approccio di pensare l'impossibile come possibile acquisire strumenti innovativi di conoscenza scoprire trasformazioni strumenti di trasformazione che non riusciamo neppure a immaginare chi poteva immaginare cinquanta anni fa le conseguenze straordinarie della idea e della prassi della deistituzionalizzazione o della carità come azione intelligente di trasformazione e affermazione dei diritti cioè il pensiero utopico di Basaglia il pensiero di speranza di Carlo Maria Martini si sono caratterizzati per coraggio intellettuale e morale perché hanno promosso la trasformazione noi oggi dobbiamo sfidare le certezze dobbiamo perdere la prudenza del possibile ritrovare il coraggio delle utopie cioè perdere quel pragmatismo tanto glorificato che usura fino al cinismo dobbiamo ricercare l'impossibile della speranza abbandonare le certezze ideologiche rinunciare alle nostre identità forti ci vuole un nuovo coraggio la speranza ci ha detto Papa Francesco cito non è ottimismo non è la capacità di guardare le cose con buon animo e andare avanti no quello lì dice Papa Francesco è ottimismo non è speranza la speranza è un rischio ecco ecco la presa di rischio consente di perdere le certezze e di ritrovare interrogativi cioè di fare del dubbio un metodo così da disegnare un progetto di ricerca perdere ideologie perdere identità per ritrovare idee che almeno si vedono in giro che tendono a scomparire quando prevalgono le ideologie sperimentare umanità dirette che invece sono impedite dal filtro delle identità si tratta di fare della speranza un progetto politico di ricerca concludo con un'ultima considerazione la doppia natura della cura delle persone non del mondo costituisce la complessità e la sua trasversalità è un'attività alta e profondamente umana perché coniuga l'intimità segreta e privata dei corpi la gentilezza e il rispetto per i viventi le pratiche umili e quotidiane dell'accudimento ma anche la consapevolezza di non essere soltanto solitari produttori di oblatività ma parti di una comunità umana e politica fatta di concreti sostegni istituzionali cioè la cura è un processo bio psico socio politico ecco e concludo io vorrei mi sembra è la sfida che lancio anche a me stesso e a voi che sapessimo rispondere a questa domanda come questa unicità della doppia natura della cura delle persone che è politica e che è intima e privata potrà riverberarsi e applicarsi alle teorie e alle pratiche della cura del mondo grande quesito cui io non ho la risposta ma che penso sia una pista importante per riflettere e per costruire percorsi reali grazie 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 davvero benedetto per questo come dire questo a questa apertura ecco di Dante che hai introdotto lavorando attorno a queste tre parole che direi insomma sono estremamente importanti non mi posso soffermare nelle tante cose che mi hai suscitato lo faremo alla fine nel frattempo vorrei chiamare Giampiero Griffo Giampiero sei? buongiorno sì sono qua mi sentite? Giampiero è coordinatore del comitato tecnico scientifico dell'osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità della presidenza del consiglio dei ministri e naturalmente è uno dei nostri amici con cui da lungo tempo veniamo a te la parola Giampiero sì grazie dell'invito e della bella iniziativa è una riflessione che credo debba avere più aspetti nel senso che il primo degli aspetti è che nel mondo i diritti umani non sono rispettati per tutti dobbiamo mettere in campo anzi sempre più vengono messi in crisi io rappresento il mondo delle persone con disabilità che per millenni sono state escluse sono state ritenute incapaci sono state ritenute malate sono state ritenute non in grado di vivere in società quindi se scusa Giampiero Giampiero non vediamo il tuo e non me lo accetta non so perché ah va bene pazienza forse quando sei entrato non importa ti seguiamo lo stesso vai e queste queste persone non ci si è attribuito uno stigma negativo che alla fine le ha escluse le ha cancellate stiamo parlando di un miliardo e duecento milioni di persone nel mondo stiamo parlando di novanta milioni nell'Unione Europea e stiamo parlando di persone che non sono vulnerabili sono persone rese vulnerabili dai trattamenti che la società ha prodotto le ha rese vulnerabili per le barriere gli ostacoli e le discriminazioni le ha rese vulnerabili perché le ha segregate in luoghi speciali in molte parti del mondo Benedetto Saraceno ricordava i manicomio ma pensate che a tutti gli istituti che ancora esistono in moltissimi paesi pensate che in Europa la scuola la la frequenta nelle luoghi ordinari solamente il 39% delle persone che stiamo a un livello in cui non è solo una questione dei paesi in cerca di sviluppo è una questione di discriminazione che colpisce ne tutti il movimento si è attrezzato a livello mondiale perché questo è un punto che spugge alla discussione di oggi ci sono dei movimenti ci sono delle attività che sono promosse da organizzazioni in questo caso di persone con disabilità ma da altre associazioni che oggi rappresentano un punto importante della democratizzazione per l'inclusione di queste persone la pandemia ha fatto emergere anche in Italia che queste persone se rimangono protette sono escluse sono invisibili non sono cittadini come gli altri e anzi sono risorti stigma incredibili associazioni professionali che ritenevano che non dovessero essere assistiti in mancanza di risorse adeguate le persone più anziane e le persone con disabilità è evidente che questi rigurgiti di discriminazioni profonde si inseriscono in un quadro mondiale di discriminazioni sono cresciute le ineguaglianze i modelli ormai di sviluppo nonostante le Nazioni Unite hanno messo in campo un documento importante gli obiettivi di sviluppo sostenibile sono ancora molto legati al profitto sono ancora molto legati alle discussioni degli interessi di chi si opera qua una riflessione va fatta il mercato non corrisponde alla democrazia il mercato è un elemento che pensa a fare soldi e non è un caso che in tutto il mondo laddove ci sta una crescita di democrazia c'è anche una riflessione su come devono essere controllati che le autorità tutti gli strumenti che sono messi in cambio dimostrano che il mercato non è una azione che difende democrazia partecipazione e inclusione questi elementi però trovano difficoltà perché i movimenti che nascono in vari ambiti dai contadini dei paesi poveri alle donne in vari livelli ai discorsi collegati alle promozioni dei diritti in tante parti del mondo non si uniscono non riescono a parlare un linguaggio comune anche se hanno valori estremamente vicini abbiamo fatto un'esperienza con il social forum che però non ha funzionato perché non erano i diretti interessati che erano coinvolti erano coloro che lavoravano in quell'ambito ma non con le dirette popolazioni oggi sorge l'esigenza di costruire la rete delle reti perché solo in questo modo potremmo da un lato contaminarci perché intendiamoci le reti lavorano spesso in maniera settoriale e in questa maniera settoriale perdono di vista tanti pezzi che pure potrebbero condividere ma che non partecipano diciamo nella maniera di dialoghi confronti anzi le ultime sviluppi delle tecnologie stanno producendo una mancanza di dialogo le persone scelgono di appartenere a un gruppo a una realtà e dimenticano tutto il resto quello che nel documento di base voi avete descritto come una lontananza dal mondo è qualcosa che nasce anche da queste pratiche da questi meccanismi che non aiutano a dialogare se pensate le difficoltà anche solo di rimuovere cose che hanno diciamo una oggettività chiara ma che non rispondono diciamo a quell'esigenza di identità povera che le varie forme di social network o di attività tra gruppi identitari impediscono di poter parlare tra di loro e quindi c'è una schizofrenia c'è una grande esigenza di costruire qualcosa che abbia un senso dal punto di vista di una forza che promuova i valori in cui ci riconosciamo che promuova le politiche in cui ci riconosciamo ma che non ha la capacità di dialogare con tutti quindi il problema della rete delle reti è un problema perché c'è tanta voglia di partecipare ma non sempre una partecipazione diciamo così circolare le persone con disabilità ormai hanno iniziato a capire che loro la loro iniziativa deve essere molto concreta in Italia oggi siamo in una discussione in cui ci sono varie iniziative che hanno a che vedere con una legge delega per la prima volta si riconosce o si tenta di riconoscere che le persone non sono disabili perché hanno una limitazione funzionale ma per le barriere gli ostacoli e le discriminazioni che impediscono di partecipare c'è un tentativo di fare una verifica di come il PNRR non sia solo le politiche sanitarie della missione 6 o le politiche sociali della missione 5 ma è tutto il PNRR che riguarda le persone con disabilità perché se si mantengono ancora barriere e ostacoli e discriminazioni si accumenta l'esclusione di tante fasce di popolazione tra cui le persone con disabilità è evidente che questo significa però una idea di riuscire a modificare anche il modo in cui lavoriamo cioè voi sapete l'osservatorio ha il compito di applicare la convenzione ma se andiamo a vedere in Italia vediamo che le regioni non applicano la convenzione e quindi i sistemi che sono alla base dei sostegni sono dei sistemi inadeguati assolutamente incapaci di garantire l'inclusione e la partecipazione di queste persone altro elemento che credo sia importante è coagulare le forze anche dal punto di vista culturale ho sentito tante citazioni di Papa Francesco che condivido ma forse dovremmo iniziare anche a sentire altre forme di espressione politica che hanno uguale dignità e capacità di aggregazione ma che non sono ancora nemmeno sui mass media se io penso a come le battaglie che vengono fatte all'interno di dimensioni come la nostra beh sono praticamente invisibili non c'è nei mass media nei giornali se non in quelli specializzati un'attenzione in Italia si parla di circa 9 milioni di persone se seguiamo il 15% che dice l'OMS scusami ti devo interrompere se puoi concludere si si sto finendo grazie la nostra idea è che la partecipazione sia un elemento essenziale noi usiamo la parola niente su di noi senza di noi che però è uno slogan che dovrebbe essere valido per tutti per tutti i cittadini perché noi siamo consapevoli che laddove le persone con disabilità partecipano in maniera competente laddove i cittadini partecipano in maniera competente producono innovazione cioè noi non siamo oggetto di intervento di altri siamo il soggetto che può cambiare il mondo che noi vorremmo per poter vivere come gli altri cittadini grazie 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 davvero il tuo contributo è sempre puntuale ricco anche di elementi concreti che aggiungiamo aggiungono e anche proposte concrete al nostro sforzo che stiamo compiendo oggi pomeriggio non so se Francesco Anfossi è collegato Francesco non lo vediamo in questo momento quindi lo rintracceremo e nel frattempo passiamo la parola a Silvana Amati Silvana eccoci presidente dell'istituto Gramsci delle Marche ma insomma grande amica del coordinamento nazionale degli enti locali per la pace e del più in generale del del movimento per la pace italiano prego Silvana grazie grazie a tutti voi per questa bellissima giornata di impegno e per i tanti le tante questioni che sono state sollevate devo dire cogliendo un suggerimento che aveva dato questa mattina il nostro amico Giulietti di poter legare a Icchera anche con altre storie facendo riferimento a questa mia ultima esperienza rispetto a Gramsci delle Marche anche l'idea di ragionare sull'opposizione all'indifferenza appunto di Gramsci potrebbe rappresentare un modo per tenere tante cose insieme ma questa è solo diciamo una memoria storica ma la storia e la memoria sono elementi fondamentali per cercare di superare le difficoltà dell'oggi delle tante cose tutte importanti devo dire tutte difficili tutte stimolanti penso alle ultime considerazioni che faceva il professor Saraceno sul ritrovare il coraggio delle utopie voglio dire ci sarebbe il mondo di cui discutere però io mi attengo solo all'ultimo punto e ad alcune mie considerazioni che partono da quanto diceva il professor Mascia all'inizio di questo nostro incontro perché è vero che i problemi sono infiniti e sono interconnessi ma è anche vero che la crisi dell'Ucraina è così emergente sul nostro mondo che non può rimanere solo citata parzialmente in un incontro come quello di oggi io ho colto con grande interesse il dato che il professor Mascia all'inizio parlasse della necessità di una mobilitazione contro la guerra in Ucraina che riprendesse appunto il dato della necessità di una posizione diversa da parte dell'Unione Europea nei confronti della posizione soprattutto degli Stati Uniti che richiamasse al trattato di Rosbona la centralità dell'ONU io ricordo Fabio in tanti anni per fortuna di incontri con voi e insieme ricordo le marce per la democratizzazione dell'ONU ricordo i drammi pesanti e la difficoltà del 1999 quando abbiamo avuto i problemi la guerra negli ex Yugoslavia i bombardamenti quindi ricordo momenti storici che purtroppo non vedo battuti e mentre per quel tempo lontano c'erano mobilitazioni impegni condivisioni evidenti oggi c'è un silenzio abbastanza assordante c'è poi il grande tema su questo anche che anche stamattina è stato riportato molto bene della difficoltà ossia della grandissima comunicazione informazione che nello stesso tempo è anche rischio di disinformazione oggi quello che noi sappiamo di questa diciamo allarme crescente per un'ipotetica invasione russa della confine di quel paese sta alla base di informazioni riservate non verificabili e siccome purtroppo noi abbiamo ben presente la vicenda ormai pubblica veramente pubblica delle armi di istruzione di massa citate per la guerra in Iraq io non credo di dover aggiungere altro su questo fronte quindi la necessità però che sta però anche all'interno della risposta la mia risposta alla terza domanda è quella di riparlare con la politica perché si diceva la necessità di prendersi cura del mondo suscitando una nuova diffusa presa di coscienza collettiva però avendo presente l'individuale ma non saltando direttamente al collettivo senza pensare alla dimensione della politica e delle istituzioni per le istituzioni qui ci si è sempre parlato e pensato gli antilocali per la pace sono stati e sono un tramite importante fondamentale della storia del movimento ma sulla politica bisogna secondo me rintervenire con più forza avendo la piena consapevolezza dell'attuale crisi della politica dei valori democratici complessivamente il nostro paese oggi mi sembra prevalentemente il paese dell'antipolitica trionfante l'abbiamo verificato anche negli ultimi giorni credo con grande fatica serve quindi ritornare alla memoria e serve battere l'inerzia ricominciare a portare avanti una riflessione attenta su cosa ha voluto dire l'indebolimento dell'ONU serve forse anche fare una autocritica spietata sulle debolezze che ci sono state domandarsi perché abbiamo in parte almeno la mia generazione ma forse non solo la mia perduto rispetto a obiettivi concreti che si pensavano raggiunti anche considerazioni legate a una storia antica che è diventata sempre più fragile io credo che quello che era la sinistra o comunque le forze democratiche complessivamente esiste ed è se è politica se no non c'è infatti oggi c'è poco quindi io credo che dovremmo tornare a puntare non solo sulla mobilitazione ma anche su un confronto serio con le forze politiche in campo oggi anche quelle europee chiedendo incontri e chiedendo una diversa posizione evidente rispetto a un quadro internazionale che ridia più dignità al nostro paese che non può essere suddito come spesso appare e che racconti meglio quello che il quadro internazionale dandoci quindi dando a tutti gli strumenti utili per comprendere cosa si può fare cosa non si deve fare troppi morti troppi problemi basterebbe una riflessione minima sulla situazione degli allargamenti degli otto allargamenti della Nato dal 49 ad oggi compresa la dimensione francese che dal 1956 al 2009 è stata fuori dalla Nato e poi rientrata nessuno pensa oggi a trasformazioni profonde antiche si tratta però di dignità dei paesi non sudditanza e soprattutto non posizioni diciamo piegate a sistemi che sappiamo già sbagliati e fuorvianti quindi non aggiungo altro perché il tempo penso di averlo già speso e credo anche di aver detto qual è il mio pensiero però riparlare con la politica è fondamentale chiedere conto alla politica avere strumenti perché senza una mobilizzazione che passi anche su quel livello che convolga anche a quel livello io credo che sarà molto difficile che si possano ottenere risultati concreti al di là di quelli che sono poi e che parlano alla nostra coscienza ma questo serve relativamente grazie grazie Silvana e questo diciamo è la la grande sfida che sappiamo di dover affrontare che adesso come dire in qualche modo dobbiamo anche provare a capire quali sono gli spazi e le strade eventualmente da percorrere ecco questo sicuramente è un richiamo importante che non dobbiamo non dobbiamo mettere da parte tutt'altro Mario Galasso Mario Galasso della Tavola della Pace grazie Silvana intanto grazie per il tuo contributo Mario Galasso direttore della Caritas di Rimini e anche dell'Emilia Romagna e allo stesso tempo membro della nostra Tavola della Pace insomma di tanti corsi e impegni grazie Mario grazie a voi poi finalmente ci vediamo in presenza quindi questo oggi oggetto veramente gioia vi porto i saluti anche di Don Marco Pagnello neo direttore di Caritas italiana col quale ci siamo un po' confrontati rispetto al convegno di oggi rispetto la possibilità di iniziare a camminare insieme nel prossimo futuro allora un po' di suggestioni e un po' anche di linee dettate da titoli però di cose che possano in qualche modo metterci in movimento rendere concreta le tante belle parole tante belle interviste che abbiamo sentito oggi recentemente è uscito il rapporto che ci dice se avevamo dei dubbi che i dieci più ricchi del mondo nel periodo del coronavirus hanno raddoppiato il loro patrimonio ci dice anche che il divario di accesso rispetto ai vaccini ma la cosa che mi veniva in mente quando esce il rapporto Osfan come altri rapporti noi puntiamo sempre gli occhi su quei dieci ma non siamo mai dall'altra parte a guardare gli altri otto miliardi che siamo noi che non siamo quei dieci che viviamo in realtà di valori di contenuti di una quotidianità che è fatta che è fatta che appone radici su una vita concreta fatta che pone momento nel come posso dire in un vivere diverso in un vivere dove veramente nessuno possa rimanere indietro e allora stamattina gli interventi appunto che sono stati nel mondo della comunicazione probabilmente veramente noi siamo bombardati da chi ci dice che non si può fare diversamente che la strada è unicamente quella e poi quando si vota viene fatto l'appello al voto utile allora come metterci se siamo noi più di loro come possiamo metterci in movimento per far sì che queste cose in cui noi crediamo in cui queste persone che sono a casa che sono nel mondo del lavoro che sono ovunque credono ma che pur credendo pensano che siano irrealizzabili che non siano praticabili allora penso che dobbiamo un po' tornare da dalle di questi due anni da quello che il coronavirus in qualche modo un po' ci ha insegnato il primo passo sicuramente è quello di tornare all'esenziale alleggerirci delle maschere alleggerirci da tutti quegli orpelli che ci dobbiamo mettere perché vogliamo apparire in un certo modo perché ma questi tutti queste maschere poi ci frenano ci impediscono di avere una relazione vera di avere una relazione reale e allora perché qui si tratta di accorciare e di fare le relazioni perché secondo me per cambiare questo sistema il primo passo è quello dell'incontro dell'incontro con l'altro abbiamo visto durante il coronavirus quanto la cosa che ci mancava di più nel momento in cui eravamo chiusi a casa era la mancanza dell'altro e allora insieme a questo riscoprire sembra come una sciocchezza ma secondo me fa importantissimo la gioia e la felicità perché dobbiamo secondo me pensare come noi vogliamo vivere bene io vorrei chiedere a tutti insomma chi vuole vivere male chi non vuole la gioia chi non vuole la felicità di riorientare in qualche modo la nostra bussola al vivere bene al vivere in un mondo dove veramente si possa essere felici e poi bisogna se abbiamo accorciato le relazioni le abbiamo scaldate abbiamo cercato di renderle più serene più felici bisogna lavorare insieme nel momento del narcisismo dell'io dominante dobbiamo passare da lì al noi da lì a noi con lo scambio dell'esperienza con lo scambio del vissuto ci sono tantissime esperienze specialmente nelle realtà più piccole quelle che vivono a stretto contatto non si è piaciuto anche l'avvento di adesso quando si parlava della disabilità dove veramente le persone che sono a cui noi ci facciamo riferimento sono veri protagonisti il rischio che corriamo molto spesso nelle nostre organizzazioni è quello di essere autoreferenziali di creare in qualche modo il la situazione tale per cui noi abbiamo ragione di esistere se penso alla Caritas quindi al rapporto con i poveri e mi chiedono qual è lo scopo della Caritas io per l'utopia vorrei dire che lo scopo della Caritas è quello di chiudere che non c'è più bisogno del nostro intervento e allora per far questo bisogna probabilmente dire anche basta alla retorica c'è troppa retorica dobbiamo andare veramente nella verità della vita di quella vita bella di quella vita di incontro di quella vita fatta di sguardi fatta di fatiche se penso al mondo della Caritas non tutti la Caritas per gli aiuti concreti che dà siano essi aiuti economici il mangiare il dormire in realtà l'aiuto vero che dovrebbe dare la Caritas è quello dell'incontro della relazione del camminare insieme poi dopo camminando insieme si capiscono quali sono le strade per aiutare anche l'aiuto concreto ma la prima prima povertà che noi viviamo in questa nostra società è la solitudine e rispetto alla solitudine tutti saremmo attrezzati per intervenire allora oggi parliamo di cura e quindi se c'è bisogno di cura come è stato detto anche stamattina vuol dire che c'è una patologia allora in questa avvicinanza in questo accompagnamento dobbiamo in qualche modo sapere anche indicare qual è il medico giusto quando qualcuno di noi ha malattia andiamo a cercare il professionista andiamo a cercare il medico giusto e in questo momento sappiamo come nella nostra società ci sono troppi charlatani e allora il fatto di poter avere una rete di medici giusti di persone giuste di persone di cui si ha fiducia con le quali si può camminare insieme diventa un modo per alzare gli occhi aprire un po' il polmoni respirare un po' di aria buona perché qui si tratta veramente secondo me accompagnare camminare insieme creare condivisione perché in questo modo qui noi ritorniamo quella fiducia quella speranza che in troppe parti della nostra società si è data perdendo e una delle strade alle quali dobbiamo fare affidamento è quella della creatività il coronavirus ce l'ha insegnato quello che prima si veniva fatto oggi non è più possibile se penso a Caritas quando è scoppiato il coronavirus noi andavamo incontro alla bella stagione quindi ci siamo preoccupati poco delle persone che devono dormire all'aperto perché sono dei rimini per cui c'è la spiaggia ci sono tante occasioni spazi dove poter andare a dormire però piano piano i mesi passavano e stavamo arrivando l'inverno e allora abbiamo iniziato a interrogarci ma quelle persone che per adesso hanno avuto l'opportunità comunque di dormire in maniera tutto sommato accettabile cosa facciamo e ci siamo inventati per esempio in questo caso faccio questo esempio per capire le vie delle attività ci siamo diventati siamo inventati albergatori abbiamo preso in affitto un albergo abbiamo ospitato le persone senza dimori in camera in bagno peraltro abbiamo chiesto aiuto alla ASL alla protezione civile a chiunque perché ci aiutassero nei protocolli per poter lavorare in sicurezza i protocolli non ce n'erano quindi ce li siamo inventati però abbiamo visto che abbiamo attraversato i due inverni stiamo attraversando anche questo ringraziando il cielo senza che il covid fosse entrato nella nostra struttura ma la cosa bella che penso che sia quella che veramente faccia fare il salto di qualità verso un futuro possibile e l'avere scoperto come quelle stesse persone che noi conoscevamo che venivano nei nostri centri d'ascolto perché venivano nei nostri servizi nel momento in cui abbiamo dato l'opportunità di avere una camera con bagno e di essere accolto in un albergo tre stelle che era funzionato fino alla stagione precedente quindi non era una catapecchia è vicino al mare nel momento in cui vediamo dignità la persona ti risponde con dignità allora penso che la rivoluzione in qualche modo debba proprio partire da questo che la cura del mondo debba partire dalla cura delle relazioni la cura della relazione con l'altro con gli altri ma anche con la nostra casa comune dove abitiamo grazie 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 mario davvero per questo bagno anche di concretezza di prassi io darei chiederei Stefano Cecconi restiamo ancora nel campo della salute della salute pubblica delle persone della nostra comunità Stefano sì Flavio ciao Stefano Cecconi è coordinatore della rete nazionale salute e territorio prego Stefano sì Flavio buonasera a tutti non riesco a attivare l'audio per cui ci sentiremo soltanto il video il video il video certo intanto l'agenda per la cura del mondo è talmente vasta e complessa e articolata come abbiamo sentito dai tanti interventi che io mi limito ad alcune considerazioni appunto più riferite a quella interpretazione della cura come cura delle persone di cui ha parlato sapientemente già anche Benedetto Saraceno e vorrei partire dalle parole di Papa Francesco che qualche giorno fa ha rivolto a un gruppo di rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate gli uomini e le donne del fisco che devono quelli sono quelli che devono riscuotere le tasse infatti citava Matteo Papa Francesco e in quell'incontro a un certo punto Francesco dice la raccolta fiscale contribuisce a superare le disuguaglianze a fare investimenti perché ci sia più lavoro a garantire una buona sanità l'istruzione per tutti a creare infrastrutture sociali e economiche cioè ci propone sembra un discorso semplicissimo banale quasi di questi tempi ci propone una impostazione rivoluzionaria rispetto al sentire comune le tasse sono odiate lo dice anche lui nel suo intervento e lui ci propone invece un patto sociale in cui e contemporaneamente pone due questioni che riguardano non soltanto l'Italia evidentemente una che la salute l'istruzione la coesione sociale le disuguaglianze eccetera sono questioni che riguardano tutti e quindi rappresentano dei diritti da affermare secondo che è in contemporanea e simultaneamente che la produzione di ricchezza deve servire a garantire questi diritti prima di tutto allora io parto da qui perché questo implica un patto sociale che si è perso nel tempo e che non riguarda soltanto l'Italia riguarda evidentemente tutto il mondo questo patto sociale che piega la ricchezza la produzione economica ai diritti delle persone prima questione e quindi da qui partirei per provare a disegnare almeno per quanto riguarda il diritto alla cura un'agenda possibile secondo mi suggerirei anche grazie ad alcuni interventi che ci sono succeduti tre questioni che forse varrebbe siccome alla fine questo nostro laboratorio prova a individuare alcuni percorsi di lavoro proviamo a ragionare insieme su quali possono essere alcuni percorsi di lavoro tra i tanti filoni che sono stati attraversati e proposti io ne propongo tre uno un filone di lavoro è come garantire come organizzare nel mondo non soltanto nel nostro paese nel mondo la copertura universale per il diritto alle cure diritto alle cure sanitarie c'è il diritto alle cure delle persone non autosufficienti degli anziani dei bambini il diritto ad avere servizi adeguati per assicurare la pari opportunità delle donne all'accesso al mercato del lavoro il diritto all'istruzione e così via cioè il diritto alle cure inteso come un diritto universale come si fa a garantire questo diritto universale e questa copertura questo è un tema che sembra banale ma che in realtà è esplosivo lo citava già benedetto Saraceno è esplosivo perché già solo questo entra in conflitto con il modello che viene ipotizzato e badate e badiamo tutti noi che è già in conflitto con la pandemia perché milioni di persone sono escluse dal diritto ad accedere i vaccini per esempio perché le grandi produttrici le big pharma produttrici di vaccini non hanno ceduto i brevetti e quindi milioni di persone sono escluse dal diritto alla copertura universale perfino durante questa drammatica emergenza che pure dovrebbe averci insegnato che essendo pandemica cioè una questione che riguarda tutto il mondo andrebbe affrontata come un'organizzazione una risposta pan organizzata cioè organizzata in tutto il mondo non è così allora la prima questione il primo punto di un'agenda possibile che io vedo in questo caso è come organizzare come garantire la copertura universale del diritto alle cure diritto alle cure in senso più molto ampio la seconda questione un secondo argomento che io percepisco molto chiaro è stato anche Giampiero Griffo in questo senso non stiamo parlando di diritto alle cure generico general generico ma il diritto alle cure è inteso come il diritto a garantire alle persone libertà dignità possibilità di scelta qualità delle prestazioni anche del welfare e allora il diritto alle cure non può che essere quello riferito al diritto alla salute di comunità non la cura come riparazione anche questo anche questo perché una malattia un disagio una difficoltà va riparata va sistemata va affrontata come tale ma c'è un diritto alle cure inteso come diritto più profondo alla restituzione dell'autonomia della libertà e quindi non un diritto alla cura che si esercita comunque sia ma un diritto alla cura che si esercita nella comunità di appartenenza che implica per tanti anziani per esempio che in questa pandemia hanno sofferto sono morti e hanno vissuto esperienze drammatiche il diritto a poter vivere nella loro comunità nel loro ambiente di vita quotidiano questa esperienza e contro ogni idea prima Benedetto lo citava di istituzionalizzazione questo significa decidere che non ci sono luoghi salvo situazioni eccezionali naturalmente dedicati alla separazione delle persone ma la cura si svolge nei luoghi della vita quotidiana perché perché riconosce che i determinanti sociali di salute di malattia sono quelli legati alla vita delle persone l'ambiente il reddito l'istruzione le condizioni di vita eccetera 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 la terza questo naturalmente influenza molto anche i progetti di investimento per esempio lo citava grifo del piano nazionale di ripresa e resilienza nel nostro paese ma che ha a che fare naturalmente con una dimensione più globale la terza questione che vorrei segnalare il terzo tema di attenzione per una possibile agenda sul lavoro di cura riguarda il lavoro di cura cioè chi lavora per la cura delle persone ci sono lavori naturalmente in questo caso ben retribuiti ben riconosciuti con un percorso professionale di assoluto prestigio e qualità sto pensando a medici a professionisti sanitari o sociali riconosciuti ma c'è un lavoro di cura misero povero misconosciuto ed è spesso lavoro di cura di persone che stanno a contatto con le persone più fragili pensiamo alle badanti a quelli che vengono definiti badanti quindi c'è anche tutta un'attività di riconoscimento di valorizzazione di ricostruzione di valore legato al lavoro della cura certo per i professionisti ma anche per chi professionista non è e perfino per i lavori informali troppo spesso si è immaginato che una persona con familiari con disabilità o con tutti noi con la persona anziana in casa che diventa non autosufficiente potesse cavarsela con qualche trasferimento monetario qualche intervento poco finalizzato il tema è invece far diventare questa una grande questione sociale e non riguarda il nostro paese perché ecco qui e chiudo la stessa organizzazione mondiale della sanità segnala che accanto alla pandemia infettiva quella che ormai ci ha travolto e che ci segnala esattamente le stesse priorità che sto provando a segnalare ce n'è un'altra che è quella delle malattie croniche delle disabilità legate proprio alle caratteristiche demografiche epidemiologiche di nostri tempi che non possono essere affrontate soltanto con qualche ospedale o qualche importante attività specialistica ma che vanno affrontate organizzando un sistema di cure diffuso continuo quotidiano capace di farsi carico di problemi sociali prima ancora che sanitari delle persone questo è una sfida immensa anche perché attraversa milioni di persone in tutto il mondo anzi il paradosso è che molti non ci pensano Benedetto potrebbe spiegarcelo è che proprio nei paesi più poveri questa epidemia delle cronicità sta diventando un problema enorme enorme che scarica su popoli più poveri più disagiati costi enormi anche in termini di salute infine chiudo tutto questo naturalmente possono essere auspici il problema è se esiste una società civile come questa nostra esperienza sta provando a fare che prova a costruire coalizioni sociali reti sociali internazionali io trovo debole questa parte del lavoro che viene fatto spesso dalle coalizioni sociali nazionali o dal grande organizzazioni come i sindacati eccetera forse va curata di più questa capacità di essere agenti che premono si esiste nel campo ambientale le esperienze che hanno vissuto in questi anni ma va lavorato molto su questa parte su questa parte della capacità delle coalizioni sociali di agire in ambito internazionale e di agire sulle istituzioni che ci sono sulle agenzie internazionali che sono sensibili in base a quanta pressione ricevono se ricevono poca pressione ovviamente già pressati da ben alti poteri reagiscono poco quindi io troverei questo come un interessante terreno di iniziativa per provare a tradurre anche concretamente operativamente alcuni contenuti in agenda del lavoro del prossimo periodo questo è un laboratorio poi ci confrontiamo e vediamo che succede grazie 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 Stefano grazie grazie mi pare che stiamo come dire scavando ancora una volta nella ricerca di queste piste di lavoro che vanno ad arricchirsi e quanto già in qualche modo sta crescendo e che esiste diciamo nella realtà abbiamo ancora sono le 16 e 13 naturalmente abbiamo ancora diversi interventi io invito tutti quelli che devono intervenire a farlo magari stando un po' attenti ai tempi chiamerei Bruno Coreen io mi permetto sempre di avvisare insomma quando stiamo dando assolutamente buongiorno a tutti buonasera Bruno insomma difficile adesso non voglio perdere troppo tempo viene dalla Francia ma ci sta dando una mano da diversi mesi ad alimentare i percorsi della marcia Perugia Assisi prego Bruno grazie grazie buonasera a tutti e tutti io volevo partire di un di un rosso che oggi il mondo non è mai stato così vicino a noi l'abbiamo nelle nostre mani i nostri smartphone nella cultura popolare mai il mondo ha chiuso tanti cantanti che sono comuni e viaggiamo come mai doggio viaggiare almeno prima della pandemia e mai abbiamo avuto così tanti problemi ad agire a livello globale è un paradosso forse perché al momento dove potremmo farlo abbiamo un forco di vertigini io vorrei infatti forse per non avere questo senso di vertigine tornare a livello un po' interneo il livello che infatti di cui non si è parlato tanto all'inizio quando abbiamo parlato dell'Ucraina ma che è il livello europeo e di vedere come possiamo fare lì una bella ambizione attraverso il livello del nostro continente perché l'Europa è un livello abbastanza idoneo Marco lo spiegavi all'inizio del nostro incontro che lo Stato nazionale ormai la sua sequenza anche se i nazionalisti non lo credono ha annito un po' il suo lavoro nel senso che non è più il livello non è più il livello oggi sul quale si può agire su avere un effetto su delle scale molto più molto più molto più larghe e si vede che il nazionismo appunto porta si sa alla guerra il livello europeo anche è dotato è stata un'esperimentazione assolutamente eccezionale nella storia mondiale ci sono equivalenti si è dotata l'Unione Europea si è dotata di trattati che infatti se si torna sono tornato un po' in anticipo sui testi fondamentali di trattati di Roma Maastricht Nisa Lisbona c'è tutto il contenuto dentro per rispondere a grande parte delle sfide sono state spiegate molto bene prima di me c'è un strumento molto importante che è la carta dei diritti fondamentali che ha un valore vincolante questa è una grande vittoria ma di cui si parla pochissimo il problema dell'Europa si sa è che è un fenomeno discendente un fenomeno che è venuto da idealisti che hanno pensato che potevano far male le guerre sul nostro continente e in parte riusciti 70 anni dopo siamo lì che l'Unione Europea ancora c'è il secondo difetto dell'Unione Europea è che il concetto di concorrenza dentro ai suoi geni e con la rivoluzione neoliberale e questo concetto ha infatti condotto a fare un po' sparire gli altri elementi molto positivi della e quindi c'è stata una contrapositività che purtroppo negli ultimi anni è stata proprio importante e si poteva pensare che l'Unione poteva sparire infatti è diventata molto in povere negli ultimi venti e trent'anni con un'accelerazione negli anni 2000 e c'è il rischio che oggi non esiste più stranamente ci sono state alcune crisi come lo sappiamo crisi finanziarie dell'euro greca il Brexit e adesso la pandemia che stranamente forse perché eravamo vicino al precipice ha reso l'Unione Europea nei sondaggi molto più molto più popolare quindi è un livello da riconquistare oggi perché gli strumenti sono i fondamenti magari mettiamo la concorrenza la competizione un po' da parte torniamo a piuttosto la cooperazione una natura collaborativa ma per questo bisogna creare un movimento ascendente educazione di sicuro l'educazione formale anche forse qualcosa che abbiamo un po' abbandonato che la formazione popolare cioè con gli enti locali con le associazioni di tornare sui cittadini per sviluppare ovviamente il livello di conoscenza sviluppare lo spirito critico senza fare il marketing dell'Unione Europea sulle istituzioni fare riflettere alla gente sull'importanza e questo bene eccezionale che è un modello nel mondo che potremmo condividere quindi per questo bisogna rinnovare essere creativi come si dice non usare forse metodi che non funzionano più bisogna andare forse verso i spazi bisogna andare verso anche verso la diversità delle nostre società si è parlato molto dell'individualismo ma c'è anche una virtù cioè che la dignità di molte minoranze è stata riconosciuta di più e quindi questo forse ha portato gente che non aveva l'indità a rivendicare un certo individualismo ma non esisteva questo lo dobbiamo riconoscere e noi bisogna che andiamo io ho notato quello che si diceva Gian Piero Grifo prima su la rete delle reti sì più o meno l'essere umano è sempre un membro di una minoranza qualsiasi che sia di genere che sia culturale che sia religioso che sia legato a un territorio che sia legato a un'identità di genere che sia legato all'orientamento sessuale eccetera e questo dobbiamo andare verso tutte queste persone che vengono di fatto se si guardano i trattati tra cui la carta di diritti frontali possono ritrovarsi assieme e a livello del frontiere quindi bisogna secondo me ricreare veramente un movimento con delle aree gli aliati perché da soli non le faremmo bisogna andare verso tutto il mondo associativo che oggi è molto forte per certi aspetti soprattutto su questo le problematiche che ho appena menzionato e bisogna andare torno lì a quello che diceva Mario Galasso sull'entusiasmo da sviluppare cioè bisogna andare sono tematiche molto però il problema del movimento progresista è che divenendo tutti i problemi che abbiamo e ci o stasera ne abbiamo alla fine abbiamo perso molte persone che non vogliono più sentire questo e quindi noi bisogna camminare assieme bisogna riconquistare certi spazi una certa allegria parlando di cose gravissime per far riaprire meglio gli occhi quindi io credo che infatti con questa idea dell'incontro concorrendo l'occasione anche della pandemia dove la gente è stata rinchiusa in casa e che si sa l'essere umano ha bisogno di ha bisogno di contatti ha bisogno di incontri di gente che non ha mai vista infatti questo motivo di grande soddisfazione per l'essere umano quando riceve un sorriso sulla strada di una persona che non conosce ci sono stati studi che sono stati fatti su questo dobbiamo usare l'Europa per questo è un continente con 450 milioni di abitanti tante diverse culture non solo nazionali ma anche dentro poi con un concetto di diversità andare verso diverse subculture per difendere sì parliamo forse senza l'esclusione in un concetto di la dimensione veramente del dialogo della cooperazione di questa cultura collaborativa di andare verso gli altri paesi per condivare una sorta di atriorismo europeo costituzionale ovviamente molto aperto voglio insistere sul sospeso con una certa una certa allegria sì per difendere un modello che non solo deve essere difeso al momento dove molti ve lo vorrebbero vorrebbero distrutto che ci sia la connessione che è stata fatta nella storia con la nazione sono anche molte conseguenze negative che dobbiamo evitare nel contesto europeo a livello dell'Unione Europea però c'è stata sì a un certo momento un vero entusiasmo sulla costruzione nazionale perché la nazione era l'equivalente di una liberazione dell'individuo e la sovranità dei popoli penso che sia possibile avere avere questo vorrei solo per finire sull'Ucraina perché ho parlato d'Europa dire che c'è un Consiglio d'Europa di cui si è poco nel quale ci sono 47 membri organizzazioni di cui non si parla molto perché si parla di più dell'Unione Europea ma il Consiglio d'Europa oggi è forse un'organizzazione di cui bisogna ricordarsi perché la Russia ne fa parte la Russia è un paese europeo che fa parte del Consiglio dell'Europa Consiglio d'Europa che difende i diritti umani che difende lo Stato lo Stato di diritto e mi sembra che oggi parlare di Europa che a livello di la gloriosa Casa Comune europea includendo i russi e ricordano i russi che noi condividiamo anche una condividiamo la stessa cultura nella quale troviamo i valori di diritti umani importanti dirlo alle russi che si considerano come minoranze pro democrazia o pro diritti oggi abbiamo delle eco che c'è gente che li cura anche lì e che forse dopo un po' di tempo potrebbe ancora una cultura di pace di cui abbiamo credenze bisogno no grazie Bruno grazie grazie Bruno e questa dimensione dell'Europa è assolutamente importante e siamo tutti in difficoltà perché abbiamo bisogno di tornare ad occuparci in maniera forse anche diversa dell'Europa una delle persone che ha speso tanti anni in Europa a cercare di costruire reti di reti è Guido Barbera io inviterei lui di intervenire adesso Guido Barbera il presidente del Cipsi e poi di tante organizzazioni a partire dalla Tavola della Pace prego Guido grazie Flavio ho già sentito tante cose analisi proposte che rischio di fare un'indigestione oggi su questo provo a fare alcune riflessioni però in aggiunta stamattina Flavio introducendo parlavi del terzo mondo no come qualcuno verso il quale ero indirizzati a portare l'aiuto da ragazzi io ho iniziato in quegli anni sono più 40 anni che mi occupo di cooperazione internazionale e il terzo mondo non era solo qualcuno che andavamo aiutare era proprio una divisione del mondo primo mondo secondo mondo terzo mondo poi il quinto e questo concetto di divisione io lo trovo proprio il grosso problema di oggi è proprio direi la malattia che dovremmo affrontare con la cura e non è cambiata in realtà addirittura stavo ragionando ieri in questi ultimi due giorni in un weekend di formazione con associazioni che mi hanno chiesto di guidarle in un percorso di coprogrammazione coprogettazione noi dal 2007 siamo dentro nella riforma del codice del terzo settore ma quando parliamo di terzo settore andiamo a dividere una volta in parti potere politico potere istituzionale potere sociale o classi eccetera continuiamo a cadere a scivolare su questo problema io credo che da qui dobbiamo iniziare a dare una svolta a ribaltare le cose perché facciamo tanti ragionamenti tante discussioni seminari convegni anche innovative con buone buone intenzioni ma sotto il nostro approccio educativo formativo ma anche litico gestionale è di dividere è di considerarci prima noi e poi gli altri e poi gli altri la riforma del codice del terzo settore dicevo alle associazioni l'altro giorno articolo 55 parla di coprogrammazione coprogettazione però allo stesso tempo dice che i soggetti del terzo settore in parole povere servono ad atto quello che il potere cioè le istituzioni decidono ma allora che coprogrammazione è o che progettazione è sappiamo se una divisione e la domanda di partenza che mi faccio è ma chi è al centro Francesco stamattina ci diceva c'è la persona c'è la relazione come come strumento ma se noi partiamo portiamo tutto ad una dimensione di divisione di terzo settore rispetto a chi decide terzo settore Mario poi me lo insegna che cos'è oggi è lo strumento per fare quello che gli altri decidono dove io non riesco come istituzione mi ricordo esiste l'associazione la società civile perché costa meno perché me lo fa mi ritorna di visibilità perché qualche volta accetta e mi porta i voti ma attenzione poi che questo non è che funziona sempre e qui dobbiamo chiederci anche noi da che parte stiamo e che ruolo vogliamo giocare fino a quando siamo disposti a rimanere i terzi io credo che la relazione non sarà mai alla pari non la costruiamo dobbiamo darci una svolta gli strumenti stessi che ci vengono messi a disposizione oggi per realizzare la cura stamattina si parlava di progetti eccetera forse Gianno qualcuno l'ha detto sono tutti 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 di competizione quindi relazione non ce n'è come faccio a parlare di cooperazione e volerla realizzare con la competizione però noi l'accettiamo noi società civile noi associazioni l'accettiamo perché se no non possiamo accedere a finanziamenti alla possibilità di fare eccetera io credo che sia il momento anche se vogliamo veramente costruire una relazione nuova di cura a metterci alla pari a chiedere di entrare a discutere le strategie le scelte le cose da fare di non utilizzare più competizione ma di arrivare al livello del dialogo del conto del costruire insieme stamattina io mi occupo anche di certe campagne minerali cristini cobalto congo abbiamo avviato da qualche mese un'azione con siamo partiti con la ex fiat proprio per il litio e il cobalto perché tutta la campagna delle macchine elettriche chiaramente chiede litio e cobalto per le batterie da fare e la nostra cara fiat con tutte siamo arrivate alla stellanza adesso chiaramente sa inizialmente non risposto ma l'interpellanza la diffida che le abbiamo mandato altre associazioni e alcuni studi illegali riguarda proprio a un presunto a noi risulta fatto contratto fatto dalla stellantis dalla fiat inizialmente per accappararsi cobalto e litio per i prossimi trent'anni allora sì è vero che vanno negli altri paesi ma l'utilizzo anche di tutti questi mezzi e materie è fatto dall'Europa e america principalmente come mercati quindi ritorniamo sempre nella nella battaglia nella materia io credo che come società civile dobbiamo fare uno scatto di orgoglio ed assumerci un po' di ruolo optivo rifiutando anche certi strumenti in un incontro qualche settimana fa chiedevo ma come si troverebbe il governiano se il terzo settore facesse uno sciopero di tutte le attività che stiamo facendo nella società civile abbiamo vissuto anche ultimamente per la questione del servizio civile qui abbiamo dei ragazzi del servizio civile assieme a Mari Tancredi gli altri contemporaneamente sono stati approvati e avviati altri giovani stanno ancora aspettando di iniziare i progetti devono ancora partire per il Brasile per il Madagascale perché per diatribe tra ministeri il dipartimento di C.A. deve essere gli esteri che autorizza gli esteri dicono non c'è sicurezza ma io non dico che non possono andare deve dirlo il dipartimento è un loro ad aprile finiscono gli altri stanno ancora aspettando di partire e noi come associazioni non diciamo niente perché abbiamo paura che ci blocchino allora io credo che dobbiamo veramente anche recuperare una capacità di essere cittadini attivi e di non essere solo i malati in attesa ma di essere anche dialoganti con il nostro medico provare le cure e gli approcci corretti ed efficaci grazie 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 anche queste sono dimensioni che portano la nostra riflessione sempre di più nella concretezza delle pratiche perché poi è lì che dobbiamo arrivare cosa concretamente possiamo pensare di fare assieme nei prossimi anni ci sono tante cose che possiamo fare ciascuno di noi che stiamo già facendo ma c'è un noi che ha bisogno di essere ricostruito e anche le riflessioni di Guido ora ci aiutano a capire la complessità delle sfide e anche la portata dello sforzo che dobbiamo mettere in campo io chiamerei Cristiano Colombi della cooperativa economia e comunità Cristiano ci sei? Sì salve a tutti ciao Cristiano prego buonasera a tutti grazie per la partecipazione a questo importante seminario allora io faccio qualche veloce riflessione dal punto di vista economico perché appunto come cooperativa lavoriamo sull'economia sociale e solidale e poi anche come professore all'Angelicum di economia mi occupo di questo e volevo fare appunto qualche riflessione e qualche accennare qualche pista di lavoro e dal punto di vista delle riflessioni e diciamo parto da una considerazione generale ma anche molto attuale su diciamo la l'incompatibilità delle teorie e delle politiche economiche con i problemi globali urgenti che abbiamo e siamo di fronte appunto a un'incapacità da parte delle teorie economiche di affrontare i problemi ma anche un'inadeguatezza delle politiche economiche che di fronte appunto ai problemi nuovi e globali diciamo potremmo dire pandemici in senso ampio riprendendo un intervento precedente richiederebbero un approccio e delle risposte nuove mentre invece si tendono ad utilizzare degli strumenti vecchi e abbiamo anche l'esempio come è stato citato anche prima del PNRR dove appunto ha tutta una serie di missioni molto innovative e anche molto ambiziose diciamo si associano una serie di strumenti tradizionali dove dall'altro il ruolo dello Stato è molto importante e anche a discapito della partecipazione più diffusa del terzo settore come diceva anche prima Guido e in più c'è un individualismo strutturale non sto qui a ritornare su argomenti che sono stati già citati e anche nel caso in cui avessimo delle soluzioni tecnologiche adeguate o scientifiche adeguate i tempi non sono adeguati all'urgenza dei problemi e di fronte a questo sono effettivamente pochi gli approcci che sono veramente innovativi o trasformativi io nella mia ricerca ho ripescato un autore molto importante ma poco noto che è un economista e matematico rumeno Giorgescu Roggen che appunto nella sua diciamo riflessione sulla bioeconomia che è un termine che viene anche usato ultimamente nelle politiche europee ma con un senso molto diverso mettere in risalto come diciamo lo squilibrio nello scambio di energia e materia tra sistema economico e ambiente portava a una entropia cioè una una tendenziale quasi ineludibile diciamo confusione e caos e perdita rispetto allo stato di partenza quindi diciamo l'applicazione di questo principio fisico alle relazioni economiche e sociali e di fronte a questa situazione abbastanza pessimistica ma purtroppo molto attuale e Giorgescu Roggen suggeriva che l'unica cosa saggia che si potesse fare era cercare di fare il possibile per guadagnare tempo per rallentare questo questo processo di entropia in attesa di un'innovazione o di un cambio di paradigma diciamo di una rivoluzione tecnologica che lui chiamava prometeica cioè fondamentale che potesse in qualche modo costituire un salto e frenare anche se non invertire questa entropia e per non essere troppo teorico in pratica significa cercare di trasformare il paradigma e quindi avere un approccio trasformativo in senso vero e proprio cosa che diciamo attualmente è molto difficile e allora di fronte a questo sicuramente è importante uno sforzo che deve essere interdisciplinare per cercare di affrontare i problemi in un modo nuovo di cercare di considerare la complessità delle questioni e anche la loro globalità nessuna diciamo così come nella pandemia nessuno nessuno stato si salva da solo di fronte al cambiamento climatico alle grandi sfide attuali ma anche direi alle problematiche geopolitiche come vediamo in questi giorni nessuno stato ma neanche nessuna disciplina ha la risposta e quindi la sfida è cercare di individuare delle strade e anche delle pratiche per essere concreti che cercano di affrontare questa complessità di coniugare l'innovazione il rispetto dell'ambiente lo sviluppo sostenibile con la comunità e con la partecipazione sociale l'inclusione sociale purtroppo non possiamo diciamo cercare delle strade parziali dobbiamo dobbiamo immaginare delle strade più complesse e ora di fronte a questo alcune alcune esperienze ci sono ma sicuramente dobbiamo avere il coraggio di ripensare anche dei modi che abbiamo sviluppato negli ultimi decenni ma che che non sono ancora che non sono diciamo sufficienti alcuni esempi diciamo di di integrazione di azioni più sistemiche e di azioni comunitarie perché diciamo questa è una parola che dobbiamo un po' riscoprire è un po' la sfida secondo secondo me secondo diciamo la riflessione che anche con altri stiamo facendo e da un punto di vista delle delle politiche e delle esperienze un caso interessante è quello ad esempio delle comunità energetiche in Italia è una legge importante che si sta sta sviluppando delle pratiche interessanti e quindi cercare di diciamo accelerare la transizione ecologica e la transizione energetica con la condivisione con la cooperazione che possa anche dare diciamo uno stimolo economico ma allo stesso tempo accelerare il processo di transizione scusa Cristiano ti chiedo se puoi stringere grazie sì sì no no non c'è problema un altro esempio può essere le pratiche di agricoltura diciamo sostenibile basate sulla comunità dove appunto comunità sostengono e sono diciamo integrate con i produttori e un altro esempio che è stato fatto e su cui come cooperativa stiamo lavorando da anni è la promozione dell'imprenditoria migrante e noi da una recente ricerca sia di due anni fa e anche con l'aggiornamento di quest'anno stiamo vedendo come gli imprenditori migranti sono anche innovatori e sono anche in alcuni casi diciamo sensibili alle problematiche ambientali e sociali con esperienze anche di imprenditoria femminile molto molto interessanti e poi per finire nell'università dove insegno da da tre anni ma diciamo proseguendo un'esperienza che era iniziata anche prima stiamo portando avanti un programma di borse di studio per studenti stranieri che non sono solo borse di studio ma offrono anche un percorso di orientamento di ricerca e di integrazione con il territorio dove appunto gli studenti sono presentati da associazioni e comunità diciamo di migranti e sono anche messi in contatto con istituzioni ONG società civile del territorio romano in questo caso allora diciamo un po' la sfida un po' così il titolo anche della nostra cooperativa diciamo economia e comunità cercare di innovare sperimentare un approccio diverso profondamente diverso cercando di valorizzare gli elementi comunitari grazie mille grazie cristiano grazie ancora io chiamerei allora Marco piccolo Marco ci sei? sì eccomi qua ecco Marco piccolo è stato con noi anche questa mattina adesso si collega online presidente della fondazione banca etica altro amico con il quale stiamo camminando da da molti anni insieme siamo quasi arrivati alla conclusione di questa nostra giornata di lavoro Marco che cosa ti senti di dire di aggiungere ecco a a questa nostra riflessione prego salve a tutti a tutte insomma di aggiungere sinceramente perlomeno all'analisi lo sguardo sul mondo non ho particolari cose e vorrei fare un po' la parte più che del del teorico del del politico oppure del di una persona anche che analizza in maniera approfondita le questioni vorrei fare un attimo passare dalla parte del del cittadino cioè della persona che ha una capacità di visione però è sicuramente preoccupato anche di cosa si può fare e allora ecco il fatto che si è parlato di economia si è parlato di finanza etica ecco mi richiama in qualche maniera a quello che io posso fare come cittadino sostanzialmente ma quando io parlo dunque io sono presidente della fondazione finanza etica che si occupa della promozione della cultura della finanza etica e collegata a banca etica quando però io parlo di finanza etica questo non ha nessun senso se io non la collego un'idea di economia che si fonda su determinati valori che non sono solo economici che a sua volta sostiene anche una società che con una forte diciamo impronta etica quindi il collegamento tra la finanza l'economia e la società sono molto stretti in questo senso anche Papa Francesco è stato anche molto anche preciso anche nell'indicare lo stretto rapporto tra economia ed ecologia integrale quindi sia l'economia come anche modalità per rispondere ai nostri bisogni però poi anche come la questione anche sociale e ambientale sono strettamente collegate anche all'economia d'altra parte il primo che ha parlato di un'economia che si prende cioè che ha parlato di economia riferendosi anche alla cura della caro è stato Aristotele più di duemila anni fa e quindi già lui in quel tempo aveva anche un'idea di un'economia che era fondata non solamente su aspetti strettamente materiali ma era legata anche alle relazioni anche agli affetti e anche quella che era la socialità quindi quando io faccio un'azione economica è molto importante che mi ponga anche delle domande sulle conseguenze che questa attività economica ha sulla società e sia sull'ambiente questo per dire che il nostro essere diciamo cittadini di questo mondo implica anche il nostro esserlo nel momento in cui noi produciamo nel momento in cui noi consumiamo nel momento in cui noi risparmiamo nel momento in cui noi investiamo e quindi allora ecco i problemi quella società quella visione di società che è uscita anche oggi anche focalizzandoci anche sull'aspetto anche dei diritti che abbiamo come cittadini di questo mondo mi porta però anche a soffermarmi sui doveri che abbiamo come cittadini nel momento in cui noi svolgiamo un'attività economica e questo lo facciamo tutti quanti noi ogni giorno compriamo dei prodotti li usiamo produciamo perché comunque viviamo appunto anche nel mondo del lavoro risparmiamo e poi magari se siamo fortunati naturalmente poi li investiamo se noi una volta che facciamo queste azioni ci poniamo anche delle domande sulle conseguenze che queste hanno sul quotidiano allora diventa anche molto importante pensare per esempio al fatto che oggi risparmi metti i soldi in una determinata situazione e mi domando anche se quel tipo di finanziamento andrà verso la produzione di armi oppure anche sosterò in qualche maniera anche le guerre questo naturalmente mi porta anche a riflettere su scelte diverse lo stesso anche quando io finanzierò o sosterò attraverso il mio consumo o attraverso il mio lavoro anche delle ingiustizie economiche o ingiustizie ambientali oppure quelle ingiustizie che in qualche maniera si riverberanno anche le generazioni che verranno ecco allora che pur naturalmente non avendo una responsabilità dei destini del mondo però io comunque posso avere ho una responsabilità del mio quotidiano anch'io ho un dovere di ho il dovere comunque di sostenere un'economia che risponde anche a una società fondata su determinati anche valori questo direi il messaggio che mi viene lanciare oggi quindi non prendiamo l'economia non sentiamola distaccata analizziamola pure facciamoci aiutare anche da esperti però poi sappiamo che nel momento in cui noi produciamo consumiamo o finanziamo ecco lì allora anche si traduce anche il nostro il nostro sentimento anche nei confronti anche di un mondo più eco più sostenibile e anche più in armonia anche con la natura questo per dire insomma che la finanza è sicuramente una cosa importante ma deve essere collegata proprio anche a un'idea di economia e soprattutto un'idea di società in questo senso che noi abbiamo ogni giorno la possibilità anche di praticarla ecco evidente che se la pratico da solo questo naturalmente avrà un effetto anche abbastanza limitato ma se inizio a praticarlo anche con altre persone con altri gruppi con altri movimenti gli impatti sono anche diversi negli ultimi anni anche grazie anche alla laudato sì qui l'ho cinto Papa Francesco non tanto sotto l'aspetto religioso ma proprio come visione del mondo lanciando proprio quella campagna anche per un'economia di transizione ha fatto comunque è riuscito a stimolare persone organizzazioni movimenti spostare anche grandi masse di risparmio verso quella verso un'economia non più fondata sul carbone ma fondata anche sulla sostenibilità e su quella che è sia ambientale che sociale quindi queste sono sicuramente delle cose anche molto importanti che vanno prese e vanno portate avanti ecco non mi vende a dire cioè mi limiterei a dire questo quindi una maggiore attenzione a quello che è il nostro essere attori economici e sapere anche che essere attori economici connota anche una dimensione politica e ritorno a quello che dicevo prima politica intesa anche come io vedo il mondo quali sono i valori di riferimenti e quindi quando di riferimento quindi nel momento in cui io faccio queste azioni economiche devo anche avere la consapevolezza la responsabilità e il dovere di farle anche in una certa maniera naturalmente come ha citato prima Colombo Colo Colombi scusatemi ci sono tantissime esperienze anche nel campo dell'economia sociale solidale l'economia civile l'economia francescana l'economia di comunione l'economia del bene comune tantissimi filoni che stanno portando avanti anche un'idea di economia a servizio di un'umanità e io dico a servizio anche del futuro quindi occasioni per poter esplicitare anche in modo anche concreto quella che è la nostra attenzione la nostra responsabilità nei confronti anche del futuro le abbiamo si tratta comunque di entrare in contatto però direi insomma che questo anche se non produrrà grandissimi risultati nel breve tempo medio lungo sicuramente sarà vincente anche rispetto all'idea di economia che si fa strada all'interno di un mondo in cui come si diceva prima la politica quella perlomeno che ci governa non ha le idee particolarmente chiare rispetto a una nuova progettualità ecco io mi fermerei qui spero di essere stato chiaro e ringrazio grazie assolutamente chiarissimo grazie questo è come dire un pezzo fondamentale che dobbiamo sicuramente riconnettere anche ai percorsi di formazione del cittadino che abbiamo sviluppato fino ad oggi non abbiamo ancora maturato una buona intersezione ecco di queste dimensioni abbiamo lavorato molto sui valori abbiamo lavorato sul senso di responsabilità dobbiamo anche connettere tutto questo con quello che è come dire l'altro diciamo il quale si è in qualche modo sacrificato tutti questi questi anni quello dei soldi e quindi pensare proporre promuovere una diversa consapevolezza un diverso uso di questo potere che abbiamo tra le nostre mani mi sembra estremamente importante Francesco Fossi Francesco Francesco Anfossi forse è saltata la connessione allora io chiamerei nel frattempo Piero Piraccini Piero vieni pure Piero Piraccini del Centri per la Pace di Forlì Cesena nonché insomma diciamo figura storica del Movimento per la Pace della Tavola della Pace della Verugia Sisi in Italia prego Piero io non ho molte esperienze da portare tenendo conto di quelle cose che ho sentito da parte di tanti amici che hanno alle spalle delle associazioni delle organizzazioni quindi possono raccontare connessione di causa gran belle esperienze e la giornata di oggi naturalmente arricchisce molto per questo io prima di questo incontro guardavo Marco un po' di quei libri qui e ne ho visto uno in particolare che mi ha colpito il titolo è I crimini di guerra un po' e ho visto che fra i crimini di guerra è considerato Rotterdam Dresda e Hiroshima mi piace ricordare Dresda perché oggi non è soltanto la giornata degli innamorati è anche la giornata in cui nel 1985 furono sganciate su Dresda 2700 tonnellate di bombe incendiari o meno parte di 1000 aerei parte della Gran Bretagna parte degli Stati Uniti sembra che Dresda fu distrutto completamente poi quanti morti chi lo sa chi lo so però mai non c'è un modo di poter calcolare una strage soprattutto fatta in paio tempi lì e mi piace spavano anche perché visto che l'incontro di oggi nel titolo iniziale è anche il riferimento ai cent'anni di Baldu Baldu ci scriveva a proposito di quella cosa che ho detto fino adesso che l'assurdo è che in una guerra nella sua conclusione c'è un processo ci fu il processo di Norimberga dove dice Baldu gli Agustini di Auschwitz furono giudicati dai criminali di Hiroshima per dire che quando c'è una guerra uno può stare dalla parte giusta o dalla parte sbagliata e indubbiamente chi ha fatto i bombardamenti su Hiroshima e su Nagasaki e su Dresden è dalla parte giusta della storia ma la guerra è quella e quindi anche se sia dalla parte giusta la guerra è un crimine e sarebbe bene tenere conto sempre di questo il motivo per cui io mi sento un po' preoccupato oggi per la storia dell'Ucraina dell'Ucraina anzi se dice così ho sentito perché l'Accademia della Crusca ha detto che lo può dire in tutti e due i modi sì va bene questo te lo posso confermare va bene sei preoccupato perché spesso al di là della volontà magari c'è un incidente che qualcuno provoca e questo incidente può provo in modo successivo ai disastri totali abbiamo visto che questo è già successo Silvana Matti accennava prima alla seconda guerra nel Golfo a quella provetta di Colin Paul che dice guardate qui Saddam Hussein era arma di distrazione di massa il tormento non era vero nulla ma la guerra c'è stata lo stesso in precedenza ancora peggio era successo nel Vietnam negli anni 60 Golfo del Tonchino non aveva nessuna imbarcazione vietnamita aveva mai attaccato nessuno incrociatore degli Stati Uniti e però alla fine furono milioni di morti in Vietnam 58.000 americani morti ora da come si è messi oggi qualcosa da genere può ancora succedere tu Marco stamattina dicevi ti rimaricavi per il fatto che mentre l'Europa nel 2003 aveva scritto un documento dove si dissociava succedendo adesso non se ne vede non se ne vede nulla e siccome ieri quando mi preparavo per oggi mi sono letto un po' di cose sull'Europa c'è una cosa che in realtà mi fa male per dimostrare che c'è quasi la pratica impossibilità che oggi l'Europa lo faccia perché ho sentito un po' questa il titolo di questo risoluzione del Parlamento europeo è del settembre del 19 il titolo è importanza della memoria europea per il futuro dell'Europa allora la memoria europea di cui si parla in questa risoluzione è quella che riguarda la seconda guerra mondiale e come concludo come dice questa risoluzione dice questo che questa guerra fu dovuta a due regimi totalitari che avevano in comune l'obiettivo di conquistare il mondo e parla del regime nazista del regime comunista dicendo poi che condanna con la massa permessa gli atti di aggressione contro l'umanità e le massicce violazioni perpetrate dei due regimi chiede poi che vengano portate davanti ai tribunali quelli che oggi sono gli eredi di chi ha compiuto a loro questi orribili crimini ecco allora io dico Marco se questa è la base con cui si valuta il passato per dire cosa deve fare oggi mi viene da dire che non c'è spazio assolutamente non c'è spazio per questo e siccome qui si parla relativa a che cosa a quel che successe allora allora io mi sono preso anche la briga di leggere siccome nel momento del lockdown non ho mai andato da fare ho letto molto ho letto in particolare questo puoi vedi chi l'ha scritto c'è chi l'ha detto vedo che mentre Itter e Mussolini questo è alla fine del anzi ancora è rinatta la seconda guerra mondiale del 44 questo quando vedo che mentre Itter e Mussolini perseguitavano degli uomini per la loro razza e inventavano per la spaventosa legislazione anti-ebrale che conosciamo e vedo contemporaneamente i russi composti di 160 razze cercando la fusione di razze superando le diversità esistenti fra l'azze e l'Europa questo tentativo questo sforzo verso l'unificazione del consasso umano lasciatemi dire questo è cristiano questo è eminentemente universalistico nel senso del cattolicesimo beh chi diceva questo era quello che poi è diventato il segretario della dell'ossia cristiana al città di Gasperi cioè nel cui c'è ancora la guerra in corso la guerra sta finendo per la verità ma è in corso il giudice che dà la persona che diventa segretaria di un partito del partito dell'ossia cristiana dà questo giudizio sulla guerra che stava finendo allora se allora questo è qui il giudizio dato il giudizio dell'Europa oggi si riferisce a questa fase di allora è un giudizio che non dà speranza allora anche concludo con questo due volte citato Gramsci oggi e io loro gli dico che fra il pessimismo dell'intelligenza che mi porta a dire che queste sono i dati di fatto che l'ottimismo della volontà c'è una nuova di ottimismo perché noi possiamo dire che la nostra ipotesi di cura c'è qualcosa che diventa qualcosa di efficace di chi ne ha bisogno e questa grande difficoltà è quella che per la verità mi angoscia da una parte e però mi fa dire noi che siamo qui i discorsi sentiti mi fa dire che tutto sommato una speranza ancora c'è ma c'è da lavorarci molto molto grazie grazie piero francesco anfossi ho visto che si eccoci ti sentiamo e ora ciò che vi avviate alla conclusione quindi sarò rapidissimo sarò il più breve possibile insomma però volevo dare anche io la mia testimonianza tra l'altro l'intervento che mi ha preceduto è molto è stato molto pregnante è stato molto bello mi ha ricordato che durante io sono arrivato in storia contemporanea e quindi mi interesso molto di queste cose perché io sono giornalista famiglia cristiana sono il capo redattore di famiglia cristiana ma come forse voi saprete il giornalismo è un po' le prime bozze della storia cioè noi non sappiamo come va a finire a differenza degli storici ma il metodo di indagine è più o meno lo stesso quindi mi interesso molto di storia beh per è stato citato il bombamento di Dresda c'è un libro bellissimo su Dresda che è paragonabile a quello di Primo Levi che è Mattatoio 5 di Vonnegut di Kurt Vonnegut non so se l'avete mai letto è una cosa straziante ma molto bella molto intensa beh si racconta che gli alleati per bombardare Dresda aspettarono il ritorno dei figli degli ufficiali dalle colonie cioè pensate quanta quanta brutalità quanto quanto cinismo no? perché ovviamente uccidendo i figli degli ufficiali il morale degli ufficiali sarebbe andato a terra no? questi sono questi sono i metodi della guerra no? dove come dice Tolsto in guerra e pace tutto viene rivoltato no? ciò che è brutto durante la pace diventa il motivo di onore durante la guerra e questo mi fa pensare a quello verso cui stiamo andando incontro no? se è vero che questi eventi di guerra tra Ucraina e Russia si concretizzeranno insomma sarà terribile sarà un altro non c'era niente di meglio no? dopo questa bella pandemia che entra una bella guerra non mancava altro eppure le logiche incrollabili geopolitiche e umane tornano riproporsi appena appena la marea della pandemia torna allora io volevo proporre la mia testimonianza di giornalista perché anche da parte del giornalista c'è il compito di migliorare il mondo la cura del mondo dipende anche da noi da noi giornalisti perché? perché la prima cosa per migliorare il mondo è conoscerlo capirlo illuminarlo come dice Papa Francesco e i giornalisti cito Papa Francesco perché Papa Francesco non so se lo sapete mi ha fatto uno dei discorsi più belli dal punto di vista giornalistico in occasione del conferimento in occasione della sala Clementina in occasione di un incontro che c'è stato recentemente in Vaticano non vado non vado cosa dice il Papa dice innanzitutto che il giornalismo è una missione non è una professione quindi bisogna viverla come una missione ma questo non è molto originale in fondo tutte le professioni vanno vissute come missione e non voglio neanche insistere sulla retorica del giornalismo che va consumato con le sole delle scarpe perché è una vecchia battuta dei giornalisti secondo me anche che lascia un po' il tempo che trova perché oggi gli strumenti giornalistici e comunicativi sono talmente raffinati e sofisticati che le sole delle scarpe lasciano il tempo che trova non è vero che se uno cammina per una piazza ne sa di più di chi ha una visione molto più completa e complessa dei fatti però ci sono delle cose molto belle che ha detto il Papa dice innanzitutto che ci sono tre verbi che caratterizzano il buon giornalismo ascoltare approfondire raccontare ascoltare è un verbo che riguarda tutti ma per un giornalista significa dice il Papa dice il Papa Francesco significa avere la pazienza di incontrare a tu per tu le persone a intervistare oggi noi lo facciamo sempre meno di solito lavoriamo molto di telefono lavoriamo attraverso i social via Facebook via Messenger attraverso Whatsapp perché? perché ovviamente il contatto diretto è ineguagliabile c'è la stessa differenza tra una lezione a distanza e una lezione sul campo poi dice che bisogna approfondire Bob Woodward che è stato uno straordinario giornalista il protagonista del Washington Post dello scandalo Watergate con lui che è arrivato praticamente a far dimettere Nixon disse che mi preoccupa tutto ciò che non capisco tutto ciò che noi non capiamo dovrebbe preoccuparci non poco e lo scopo del giornalista è proprio questo quello di farci capire di avvicinarci il più possibile al vero e non al verosimolo al verosimile scusate quindi approfondire non è un elemento accessorio nel giornalismo dice il Papa ogni notizia ogni fatto di cui parliamo ogni realtà che descriviamo necessita di approfondimento e poi naturalmente raccontare perché ogni cosa la mente umana è fatta per individuare una storia uno storytelling no? non c'è vita senza un romanzo che racconti questa vita ed è compito proprio nostro quello di raccontare io ne aggiungo un altro mio personale che è quello della testimonianza attraverso la testimonianza personale quella che fa ogni comunicatore è possibile arrivare a una visione del mondo più complessa più circostanziata più illuminata quando Flavio mi ha proposto di parlare della cura del mondo gli ho detto gli ho fatto una battuta vast program direbbe The Gold ma in realtà è molto meno vasto di quel che sembra perché se ognuno di noi riuscisse a fare in modo adeguato la propria professione considerandola una missione cercando di migliorare anche quel poco che c'è intorno a se stesso probabilmente il mondo migliorerebbe spero di non avervi annoiato grazie assolutamente no grazie Francesco sempre assolutamente lucido chiaro essenziale abbiamo un grande bisogno di comunicazione autentica di giornalismo autentico di professionismo della ricerca della verità che è una missione che compita che ci spero a tutti diciamo ma che qualcuno come dire possa come dire aiutarci ecco in questo cammino è e sarà sempre di più decisivo quindi grazie grazie del tuo contributo e insomma hai strappato un pezzo del tempo oggi il giorno di chiusura del giornale quindi grazie ancora Amelia Amelia Rossi della rete delle donne antiviolenza mi pare che Randa abbia deciso di iniziare al suo intervento quindi con Amelia chiudiamo il nostro incontro poi proviamo a tirare le fila e arrivare a un momento di chiusura prego grazie sì in effetti siamo un po' siamo un po' stanchini credo che stiamo andando verso insomma la fine oggi abbiamo riflettuto sulla cura perché credo che abbiamo un po' tutti compreso che quella contro il covid non è come è stata definita una guerra da vincere per tornare alla normalità che tra l'altro è una normalità fatta di tante guerre e una che addirittura sta minacciando questi giorni l'Europa ma doveva essere per tutti noi un'occasione una spinta al cambiamento a partire da delle priori diciamo diverse che oggi sono state via via dette prendendo ecco questo concetto di cura come paradigma di una società nuova la cura come abbiamo scritto anche insomma in tutto questo percorso che ci ha accompagnato alla marcia Perugia-Sisi che è responsabilità verso se stessi per l'altro verso il mondo che abbiamo in comune con tutti i nostri simili e abbiamo oggi ascoltato tante persone che in maniera diversa tolgono azioni di cura e in questa terza e ultima parte della giornata ci stiamo però occupando di rispondere tentare di rispondere a come possiamo estendere la cura del mondo cioè come facciamo crescere io penso soprattutto nelle giovani generazioni quella consapevolezza e il senso di corresponsabilità di ognuno di noi questa era una delle domande alle quali ci hanno invitato a rispondere Marco e e Flavio chiaramente è una domanda difficile è difficile rispondere in pochi minuti io ci provo da una prospettiva diciamo di genere che è che va in relazione anche al mio vissuto al mio impegno quotidiano diciamo che io oggi leggo tutto quello che vedo e giudico da questa prospettiva prima il professor Tosolini diceva che la scuola dovrebbe formare degli attori non degli spettatori noi faremo una settimana civica a cui abbiamo dato il titolo protagonisti non spettatori ma come si diventa protagonisti come si diventa attori ecco io penso che per far crescere la consapevolezza questo senso di corresponsabilità abbiamo la coscienza collettiva volontà di impegno e di attenzione verso il mondo prima bisogna vederci cioè noi donne bisogna vedere noi stesse nella comunità che ci circonda che rapporto abbiamo noi donne con il mondo cioè se è vero e i dati parlano di questo che una dronna su tre al mondo subisce violenza subito una qualche forma di violenza fisica psicologica economica il cinquantacinque per cento delle donne nell'unione europea cioè in un degli ambiti dove siamo messi un pochino meglio ha subito una violenza sessuale no? pensiamo a quello che succede anche in altri mesi ecco oggi sappiamo che la violenza è al tempo stesso causa e conseguenza della discriminazione di genere gli effetti devastanti perché immiserisce la percezione che noi abbiamo di noi stesse mina la nostra autostima il nostro benessere la nostra salute ci fa chiudere ci impedisce anche di liberare tutte le nostre potenzialità e non parliamo di una coria di persone ma parliamo della metà più della metà del genere umano il 75% dell'assistenza e del lavoro domestico non retribuito nell'Unione Europea è svolto da donne quindi noi donne giovani e giovani eh viviamo in un mondo e in una società che in qualche modo replica continuamente in forme diverse queste forme di violenze e queste attitudini abusanti e soprattutto lo fa quando ci assegna dei ruoli ci assegna delle etichette tanto per fare un esempio durante il covid abbiamo parlato molto di si è parlato di conciliazione conciliare i tempi eh di famiglia e di loro ma era qualcosa che riguardava le donne cioè non si ha la conciliazione come come riguardante le donne non siamo nemmeno riusciti a parlare di coazione all'interno della società all'interno della vita familiare se è questo che ti definì donna per noi anche il concetto di cura no rimarrà sempre un concetto domestico personalistico tronde la predominanza maschile storicamente è fondata sull'esclusione delle donne dalla polis dalla cittadinanza dalla sfera politica dalla sfera pubblica è questo che farà dire a la Simone de Beauvoir donna non si nasce lo si diventa come facciamo ad occuparci del mondo se siamo continuamente sospinte spinte fuori dalla sfera pubblica anche il concetto di empowerment femminile che oggi è presente l'agenda ventitrenta in tutte quante in qualche modo le strategie dell'Unione Europea e non solo ma di questo concetto se ne è parlata la conferenza mondiale delle donne di Pichino nel novantacinque cioè sono passati venticinque anni cioè l'elettrice Silvia Vallone ieri sul Corriere della Sera ha scritto come vi sia una correlazione forte tra un sistema di istruzione che funziona e l'emancipazione femminile riferendosi alla DAD no? quello che ha comportato per le bimbe e bimbi ma anche per le donne io allora vado un po' alla proposta alle proposte no? perché poi dobbiamo anche essere concreti oggi e metto anch'io come tanti di noi hanno fatto oggi al primo punto del ragionamento la scuola la scuola dovrebbe a mio parere contribuire al superamento di questi pregiudizi e di questi stereotipi basti pensare ancora alle polemiche sugli testo la mamma ma si era il papà lavora no? che tutte le volte dobbiamo in qualche modo rimettere e ridenunciare ma anche alla riscoperta figure femminile importanti sia attuale che storiche per non parlare del linguaggio anche lì si apre un tema forte quando qualcuno ironizza sulle declinazioni femminili quando ci prende in giro sul fatto che pretendiamo l'uso femminile no? delle parole io dico sempre alle persone ricordiamoci che quello che ci distingue dagli animali quello che distingue la persona umana dagli animali è la parola la lingua sono le parole che ci caratterizzano e che ci definiscono quello che non si nomina non esiste quindi ragioniamo anche su questo io penso che per le ragazze l'ho sperimentato è molto importante avere dei modelli di riferimento per dare forza all'impegno per costruire anche una nostra simugia che a noi è sempre stata negata e quindi per trovare anche il coraggio di scegliere e di prendere la parola un piccolo esempio facciamo studiati la rivoluzione francesi sappiamo tutti chi è Robespierre ma forse in poche sanno chi è Olympe de Gouche a cui hanno tagliato la testa dopo che lei ha scritto il documento che è la dichiarazione dei diritti delle donne e della cittadina che è un documento attuale anche oggi e lei lo scrive nel 1791 però non lasce nessuno quasi inoltre e chiudo credo che se vogliamo prenderci cura del mondo dovremmo valorizzare di più il pensiero delle donne perché tutto quello che abbiamo discusso oggi il tema per esempio dell'etica della cura della responsabilità nella relazione della democrazia del potere sono tutti concetti centrali nella nuova cultura femminile la dottorelle che stamattina ha citato delle autrici importanti anche la Marina Galati ne potrei citare altre penso alla Carol Dilli Anna Arendt la Lucy Rigarai tante altre pensatrici scrittrici psicologhe che non hanno mai trovato il giusto riconoscimento se non diciamo negli ambienti femministi a me queste autrici mi hanno cambiato la visione e mi hanno anche cambiato la vita perché perché il loro nasce innanzitutto dall'ascolto delle donne cioè nasce dal coraggio di molte donne di ascoltare di raccogliere anche di raccontare l'indicibile storie individuali di violenza che diventano collettive che diventano prassi e teorie per aiutare per sostenere le donne a uscire dalla violenza ma diventano anche una chiave di lettura del mondo io credo che appunto queste visioni queste idee dovrebbero contaminare anche altri ambienti sono d'accordo con quello che diceva Gian Piero Griff prima dobbiamo contaminare anche le nostre conoscenze però io credo che a volte dobbiamo anche disimparare cioè mettere in discussione che sappiamo che abbiamo studiato come se fosse la verità e provare io ho messo in discussione me stessa perché ero molto giudicante nei conti delle donne che non si impegnavano e poi mi sono resa conto di quello che c'è dietro anche a questo disimpegno questa scarsa presenza a tanti livelli non siamo all'anno zero lo diceva prima Gian è vero oggi finalmente si discute si parla di tutto questo e come dice la scrittrice Cimamanda Ingozia dici però dobbiamo fare meglio penso che dobbiamo fare ancora molto molto meglio grazie 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 Amelia grazie davvero per queste riflessioni che sono già di per sé una una conclusione una buona conclusione per questo nostro incontro e però ancora qualche minuto ce lo prendiamo fino alle 17.30 chiedo scusa a Gianfabra a cui avevamo chiesto di intervenire nel corso di questa ultima sessione ma i tempi purtroppo ci hanno costretto come lui aveva ben previsto peraltro diciamo a come dice ad accorciare qualche parte lasciatemi dire una sensazione che che provo in questo momento è una sensazione quasi di schizofrenia perché stiamo pensando al mondo e c'è un mondo che ci sta crollando addosso io non lo so cioè in altri tempi forse di fronte all'annuncio di una guerra come quella che come quello che ci è stato fatto nei giorni scorsi potrebbe mercoledì era mai accaduto che qualcuno come dire annunciasse una guerra del tre giorni dopo insomma che cosa potrebbe avere mercoledì sedici o il diciassette no oppure qualche altro giorno non lo sappiamo ma questa preoccupazione in altri tipi non avrebbe fatto annullare questo importe in altri giorni in altri periodi avremmo forse cercato di organizzare una tenda di mettere una tenda in piazza un presidio di fare qualche cosa per fermare la guerra per impedire la guerra preparando questo incontro mi è ritornata in mente la canzone di De Andrè se verrà la guerra come se verrà la guerra è una cosa quasi impossibile ho cominciato a pensare che cosa farei cosa farò se verrà la guerra siamo diventati matti siamo diventati matti stiamo anche noi pensando a quello che faremo il giorno dopo perché non siamo più capaci di trovare qualche cosa di sensato da fare il giorno prima perché questo è il vero problema viviamo il grande dramma della sordità della politica che la sordità della politica ha ucciso tante energie positive che c'erano nel nostro paese e non trovando sponte hanno soldato valore alla partecipazione civile alla mobilitazione all'impegno in altri tempi avremmo organizzato oggi una marcia della pace e questa volta non l'abbiamo organizzata perché dubitiamo della sua efficacia suo valore tutte le cose che si fanno hanno un valore naturalmente ma la domanda è più profonda che cosa è più utile fare oggi non abbiamo ancora trovato una risposta a questa domanda perché ci stiamo scontrando con la drammatica crisi della politica Silvana giustamente ci hai richiamato alla necessità di un'interlocuzione ma io le ultime gli ultimi tentativi di interlocuzione con la politica si sono concluse con delle minacce se fai quello che fai la pagherai questo è il messaggio che arriva che mi è arrivato personalmente dalla politica di recente e quindi mi domando che tipo di possibilità concreta abbiamo oggi di interlocuzione di ricostruire dialogo noi che crediamo nel dialogo che abbiamo bisogno del dialogo perché crediamo che sia il canale il mezzo principale per per cambiare le cose abbiamo anche una pressione di tempo il dialogo in generazione di tempi lunghi e oggi abbiamo più tempo non c'è più tempo per il cambiamento climatico siamo già dentro il cambiamento climatico no ha fatto bene Fabio ci conta questa mattina di attolineare la contemporaneità delle crisi no che stiamo che stiamo vivendo e e quindi il bisogno di agire oggi senza tempo sapendo che solo il tempo però riuscirà a cambiare le cose è parte della contraddizione enorme che viviamo lacerante in questo in questo momento e allora che cosa possiamo fare oggi convocare una manifestazione domani mattina dopo domani il 16 può servire tutto può servire dobbiamo cercare di capirlo oggi abbiamo un noi molto molto indebolito e non possiamo più permetterci di affrontare le sfide enormi e immense che abbiamo davanti con un noi che quando si materializza si limita ad essere una somma di individui un noi che è somma di individui non cambia la realtà può una rappresentazione felice di quello che dovrebbe essere ma non cambia le cose abbiamo bisogno di un noi che è un po' il prodotto anche dello sforzo di oggi che recupera una visione un pensiero una capacità di ascolto della complessità quella oggi è stata una giornata molto faticosa molto faticosa per me perché ogni intervento è stato di una ordinare ricchezza di temi di questioni e non c'è modo di sfuggire a questa fatica ma ha più senso che ci impegniamo nella ricostruzione di un noi autentico autentica che autenticamente può essere in grado di svolgere una funzione sociale in questo tempo piuttosto che organizzare ancora manifestazioni di individui non lo so lo punto lo metto con un punto di domanda abbiamo bisogno di riconvocarci per esempio di riconvocare il comitato organizzatore della perugia assisi lo facciamo facciamolo riconvochiamolo anche se la guerra non ci sarà speriamo che non ci sia comunque un problema di ricostruire le basi per una pace e duratura in Europa c'è comunque il problema che la guerra anche se non è stata dal punto di vista ancora delle armi esiste quotidiana e continua su scala globale tra Russia Stati Uniti Stati Uniti e Cina competizioni a tutti i livelli insomma va bene questo è come dire un po' un pezzo della riflessione di cui ci facciamo carico ecco di cui ci facciamo carico la sensazione che io così mi sento di condividere che abbiamo bisogno di fare delle cose che ancora non stiamo facendo abbiamo bisogno di reagire ad un senso di impotenza che prende anche noi e quindi bisogno forse di smettere di fare alcune cose di farne delle altre non lo so sento che anche a noi viene il rito di trasformare mi ha colpito molto la forza con cui Benedetto Saraceno ha messo in gioco tra lo scarto e la speranza il conflitto abbiamo bisogno forse di ritrovare il coraggio di generare conflitti conflitti non violenti naturalmente ma conflitti perché la rottura è profonda ormai è di sistema e il fatto di dire di sistema non significa macro significa anche micro significa anche personale sono fratture che attraversano tutte tutti e quindi abbiamo bisogno di rimettere in discussione anche i contenitori dentro i quali agiamo e lavoriamo forse abbiamo bisogno di costruirne di nuove di ricercare le strade per costruire qualche cosa che possa aiutarci ad affrontare questa nuova fase che non è una fase banale diciamo c'è l'individualismo da vincere che è dappertutto anche tra di noi e poi c'è la solitudine che a volte è un prodotto dell'individualismo ma che è anche una malattia sociale drammatica se vogliamo ricostruire un noi oggi è stato detto da tanti abbiamo bisogno di ritornare a lavorare sulle relazioni e trasformarle da relazioni competitive in relazioni di cura reciproca è un salto enorme è un salto enorme però forse è quello che ci viene richiesto come faremo a portare in piazza a mobilitare diciamo così tanta gente se la gente non ha una relazione con noi non potremo giocare come talvolta ci è stato suggerito di fare sul cantante sul nome famoso sul no l'emotività l'emozione se la guerra se verrà la guerra ci saranno le manifestazioni per la pace il giorno dopo ci possiamo scommettere noi che crediamo nel lavoro per la pace del giorno prima stamattina volevo dire a un giornalista che mi chiedeva per l'ennesima volta come mai non ci sono manifestazioni di pace e gli volevo dire noi abbiamo fatto una 10 di ottobre dell'anno scorso per prevenire questa guerra e anche tutte le altre no non se ne sono neanche accorti tranne qualcuno insomma perché chi fa la pace del giorno prima non esiste normalmente questo non vuol dire che noi siamo assolti oggi siamo oggi abbiamo fatto per esempio una cosa che da due tre anni non facevamo più abbiamo riallargato il nostro sguardo al mondo e non può essere una parentesi non vuole essere una parentesi oggi abbiamo condiviso tantissime idee le dobbiamo raccogliere tutte e quindi oggi qualcuno ha lavorato tutto il giorno per prendere appunti ma rileggeremo trascriveremo le cose che ci siamo detti a breve torneremo a condividere un nuovo documento che magari raccolga e poi torneremo a confrontarci abbiamo bisogno di creare un percorso quindi l'invito a tutti quelli che ci hanno seguito che sono qui a Padova e dai loro uffici dalle loro case in tante parti d'Italia e del mondo l'invito è a continuare a pensare a continuare a ideare a progettare e poi a verificare insieme che cosa è possibile concretamente fare in un tempo in cui sentiamo il peso stamattina mi veniva in mente il famoso l'Atlante il famoso uomo che porta sulle spalle il pianeta ecco oggi in qualche modo ci siamo fatti ci siamo messi in quella posizione in qualche modo ecco ci siamo messi in quella posizione e mentre siamo sotto il peso di questa fatica dobbiamo anche provare a ricostruire fiducia speranza entusiasmo impegno in uno sforzo importante anche per noi peraltro perché è difficile vincere una 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 rivoluzione mi veniva da dire così come quella che ci viene richiesta con la tristezza diciamo e allora va bene che ci prendiamo l'impegno Marco a te lascio la parola per concludere ci prendiamo l'impegno di non buttare via neanche una sola delle idee delle gestioni che ci aiutano a capire quanto profonda sia la cura la crisi di cura che stiamo vivendo e quanto tutti insieme possiamo provare a ritessere una tela e una trama di cura concreta grazie grazie ancora una battuta conclusiva molto Flavio ha detto già tante cose io direi che oggi ne usciamo tutti molto più arricchiti e molto più consapevoli anche no della della situazione che stiamo vivendo e anche delle strade che dobbiamo che dovremmo intraprendere se vogliamo veramente incidere sul sul cambiamento no dobbiamo prenderci cura del mondo oggi abbiamo detto perché il mondo è entrato nelle nostre case dobbiamo prenderci cura del mondo perché il mondo è entrato nelle nostre case e se ciascuno di noi individualmente in associazione con altri deve gestire no delle sfide che sono globali allora è altrettanto vero che queste persone che gruppi devono poter partecipare no all'elaborazione delle politiche pubbliche che servono per gestire queste sfide e questo deve avvenire come da tanti anni diciamo dalla città dal quartiere dalla città fino alle Nazioni Unite oggi qui all'Università di Padova si sono incontrati docenti universitari rappresentanti del mondo delle organizzazioni non governative del mondo della scuola del mondo dell'informazione del mondo delle banche per quanto etiche delle cooperative c'era la rete delle scuole di pace la rete delle università per la pace quindi oggi un'università quella di Padova che si mette in relazione con il territorio che vuole essere territorio non solo e non tanto per la terza missione quindi un'università che come dire è un cantiere aperto al sapere sperenziale della società civile un'università che si mette a disposizione del territorio e della società civile io penso io penso che questo nuovo contenuto di cui parlava Fravio debba emergere da un'alleanza strategica da una sorta di fatto di solidarietà tra questi mondi se pensiamo anche come dire al linguaggio ai contenuti del seminario di oggi e andiamo a riprendere il linguaggio e i contenuti delle nostre manifestazioni pacifiste degli anni ottanta vediamo come come tutto è cambiato e come dentro di noi ci sia veramente una forte tensione progettuale che ci guida cioè siamo qui che cerchiamo di capire quale deve essere il progetto che più può incidere sul cambiamento e quale deve essere il metodo che noi utilizziamo per il cambiamento Fravio diceva prima ma forse le manifestazioni di piazza non servono più o servono meno oggi e al di là delle manifestazioni di piazza però il metodo che dobbiamo individuare per portare avanti il cambiamento è un passaggio fondamentale allora la cura del mondo mi pare che si possa anche riassumere così da quello che emergeva oggi passa attraverso la dell'informazione passa attraverso la cura della scuola passa attraverso la cura dell'università passa attraverso la cura del nostro mondo delle organizzazioni non governative cioè c'è bisogno anche di una riflessione all'interno di questi mondi che probabilmente hanno bisogno anche forse di proprio per per capire cosa sta accadendo nel mondo di vedere a maggiori conoscenze a maggiori competenze quindi penso che seminari come questi si possano ripetere l'ottica non sempre strategica di tentare di condizionare lo sviluppo di alcune politiche chiaro che facciamo fatica ora sull'Ucraina di intervenire ci sentiamo impotenti ci sentiamo impotenti noi ma è impotente lo stesso consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite dov'è dov'è Guterres dov'è segretario generale delle Nazioni Unite chi l'ha visto chi l'ha sentito in queste settimane il consiglio di sicurezza ha adottato una risoluzione cosa ha fatto quindi veramente Stati Uniti Russia e Unione Europea sono riusciti ancora una volta ad umiliare le Nazioni Unite a non credere nel negoziato a non credere che ci sono strumenti alternativi alla guerra per risolvere le controvesti internazionali come scrive la carta delle Nazioni delle Nazioni Unite però questo non ci deve indebolire non ci deve far dire che il bicchiere è mezzo vuoto perché il bicchiere è mezzo vuoto come dice qualcuno l'abbiamo già l'abbiamo già perduto insomma sono convinto Flavio che da questa alleanza non potrà che nascere un nuovo progettuale impegno per la pace e tu adesso non hai avuto il tempo di dire quali sono le scadenze che abbiamo davanti forse lo puoi ancora dire se vuoi penso che sia opportuno da qui quantomeno all'estate per indicare insomma che è l'inizio di un nuovo percorso nel quale crediamo e penso che le persone che sono intervenute oggi abbiano dato in agibilità politica ecco a questa nuova idea che abbiamo voluto costruire insieme quindi ancora grazie a tutti a tutti però una battuta a Flavio giusto per la settimana ci a quello che ci aspetta a brevissima sì grazie grazie Marco grazie Marco e intanto rispondere alle persone che ci hanno scritto anche nella chat dicendo che l'incontro di oggi resterà online sia su Facebook che YouTube quindi avremo la possibilità di andarlo a rivedere a riascoltare magari anche di condividerlo con altri amici e amiche insomma perché possa essere un'unione per anche per altri insomma di partecipare a questo percorso di riflessione collettiva ringrazio anche Luca Gazzola che sta alla regia che ci ha aiutato a gestire il nostro incontro e voglio dire semplicemente che faccio un po' fatica a dire quello che faremo ad aprile lo dico solo perché credo nei percorsi non stiamo reagendo noi dobbiamo agire dobbiamo smettere di reagire e dobbiamo agire cioè agire vuol dire avere una visione una strategia e noi come dire come dire vogliamo costruirla rivederla modificarla con tutti quelli che sono disponibili la prima tappa è nata dalle scuole ed è questa settimana civica che faremo dal 25 di aprile al primo di maggio di quest'anno due date particolarmente evocative importanti della nostra repubblica del nostro paese della storia del mondo anche durante la quale cercheremo di dare valore a tutti i percorsi di educazione alla cittadinanza di educazione civica di cui oggi abbiamo in qualche modo costruito una parte delle basi insomma è una settimana che dedichiamo a David Sassoli perché crediamo che il suo esempio sia l'esempio di un cittino che debba essere conosciuto studiato riflettuto a scuola insomma perché possa diventare simbolo per tanti io ecco per tanti ragazzi e ragazze dico Sassoli e immediatamente mi viene in mente quello che diceva prima Elia che dovremmo anche mettere un un simbolo femminile accanto a questo ma non per appunto un discorso di pariunità ma per un cambio di atteggiamento globale insomma che dobbiamo che dobbiamo avere certamente nella storia della cura che vogliamo cercare di sviluppare di cui la cura del mondo è una parte fondamentale le donne sono coloro che hanno anche saputo rielaborare l'idea della cura come paradigma del cambiamento che deve avvenire nella società che di cui abbiamo bisogno insomma e quindi ecco con questo appuntamento ma anche con tutti quelli che annuniamo anche nei prossimi giorni invito tutti a seguirci su facebook su tiktok sui vari insomma social che abbiamo sul nostro sito la pace perché cercheremo di fare quello che è nelle nostre possibilità però anche qui voglio subito correggere fateci sapere quello che volete fare voi quello che organizzate voi abbiamo bisogno di progettare insieme non aspettiamo che qualcuno indica per noi la manifestazione giusta cerchiamo di organizzarne una noi dove è possibile riunendo le persone che ancora ci credono e che siccome credono ci vogliono lavorare grazie ancora a tutte a tutte buona buona serata buon rientro a casa a microfoni in maniera che tutti coloro che sono ancora collegati si possono salutare vi salutiamo anche noi potete accendere i vostri a tutti ciao arrivederci ciao a tutti grazie ciao ciao grazie anche da ora ciao a tutti grazie arrivederci grazie mille a voi che siete presenti vi ricordo che c'è il calendario qui per voi a disposizione il calendario della cura grazie